E buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, ciao, 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 grazie a tutti quanti per essere qui in questo lunedì 20 giugno Magari si metto il microfono, che dite? Forse mi sentite meglio, vero? Sono un po' baluba Buongiorno, ma buongiorno, grazie Federico, grazie, wow, gnocco, con sta capigliatura stamattina Vi chiedo scusa, sono veramente, guarda, starò qua, uuuuh, c'è un ride, grazie, grazie mille a Fox, grazie davvero Un salutone, un salutone a tutti, grazie mille, grazie, 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 grazie Ciao Nick, ciao Happy Board Game, ciao a tutti quanti i raidanti, grazie, grazie Oh, buongiorno anche a Paolo Bax, Board Game Offerte, sì, sì, lo so, l'ho incontrato stamattina, ha detto di ricambiare i saluti, assolutamente Tanto facciamo un giro di saluti e buongiorno Next al buon Board Game 101 Che è subito pronto ai blocchi di partenza per questa nuova live di questo nuovo lunedì E buondì anche a Michele, a Obakemono, Fabio, eccoci pronti per capire come Next ci rovinerà il portafoglio di qui a breve Beh, assolutamente, assolutamente sì, perché ci sono, c'è specialmente un titolo tra tutti che non sapevo, non conoscevo, non sapevo dovesse arrivare Arriverà in italiano e quando l'ho visto ho detto, io ho detto, wow, quando Vale sentirà questa news Salirà a obbligarmi a fare un preordine anche se non è ancora attivo, poco importa, lei lo vorrebbe già subito Lo vorrebbe già subito, quindi restate collegati, restate collegati perché c'è una cosa veramente, veramente molto, 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 molto sfiziosa E grazie anche a Numero Pantone che rinnova l'abbonamento per ben 14 mesi Grazie mille, così mi dai anche la possibilità di ricordare a tutti quanti che se avete un account Amazon Prime Potete abbonarvi gratuitamente al canale di Dungeon Dice TV In modo da sostenere tutti quanti noi streamer, tutti quanti noi volti che vedrete, vedete qui sul canale Di darci la possibilità di tenervi compagnia ancora più di come stiamo facendo Perché siamo qui tutti i giorni live alle 12.30 e tutte le sere alle 21 con vari formati, varie tipologie di racconti Oh grazie anche a Giochi in Giro Project anche per aver rinnovato l'abbonamento 15 ben portati, decisamente sì, decisamente sì, intanto scusatemi ma ho bisogno di idratarmi Vedrete una luce un po' strana, vi avviso, mi duole ma tengo tutto aperto per far girare un po' meglio l'aria Qua su in mansarda, intanto sta per partire Live Train grazie a TiggerCat che ha rinnovato l'abbonamento Grazie a tutti quindi vi ricordo che se nei prossimi minuti lanciate qualche bit oppure vi abbonate al canale Date la possibilità di essere spammati meglio qua su Twitch, raggiungere quante più persone possibili E allo stesso tempo anche voi potete sbloccare emoticon, sbloccare cosine qua su Twitch Ma intanto andiamo avanti con i saluti, buongiorno Melx, buongiorno Tortellino Bolognese che è così felice Giorgio One Plus, buongiorgio, buongiorgio anche a te Giorgio, grazie mille e buon pranzo D'altronde anche come ti dicono, buon dì, ti sentiamo, audio un po' bassino è perché non avevo il microfono ma ce l'ho fatta Buongiorno a Turgan dal Dungeon Store di Pescara e buongiorno anche di nuovo a tutti quanti i raidanti Che adesso vi recupero la chat, buongiorno, 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 ciao anche a lei Carissimo, ciao Lali Kiki, ciao Remo, ciao EpiVort Game che è tutto orecchie Lugd e vediamo chi non ha ancora salutato, Tania Il Viaggio di Martis, buongiorno, buongiorno anche a lei E Lenders, ciao Lenders, ciao carissimo, ciao che piacere vederti E Remo che ha provato Sword Crafter e dice che l'ha sorpreso, bello, sì è stato un gioco che aveva sorpreso anche noi Perché non gli avrei dato granché e invece il giocato ci ha veramente divertito un sacco E buongiorno anche a Impecorator, Impecorator mi piace molto come nickname Buongiorno a te, grazie mille per essere per la prima volta, comunque per scrivere per la prima volta qua in chat Grazie davvero, benvenuto e che cosa si fa qua in Next? Chiacchieriamo un po' delle notizie, le novità del mondo dei giochi da tavolo, di ruolo, libro game Un po' dando uno sguardo non solo ai titoli in uscita ma anche a qualche notizia che ho trovato in giro per l'internet Che potrebbe essere interessante per tutti quanti Ma qua su DungeonDice TV non si parla soltanto di giochi da tavolo, di ruolo, libro game Ma si parla più in generale di cultura pop a 360 gradi Scusatemi, scusatemi, intanto ho dovuto dissetarmi Domandone, è normale che in estate la mia media passi da 40 ore di gioco al mese a meno di 20? Sì, ci sta, perché come tutte le cose quando fa caldo, come ci raccontava una famosa pubblicità Antoffa caldo, effettivamente uno non ha voglia di fare niente Anche star seduti si suda con le mani sudate, le carte si appiccicano alle dita Ah, che fatica a ragionare dove metto questo mini pollo sulla plancia Ah, fa troppo caldo e quindi sì, ci sta a meno di andare a giocare E grazie mille a Johnny Bonny, benvenuto Johnny, grazie mille per essere qui Grazie mille per essere salito a bordo e averci lasciato un follow E grazie anche a NetDreamer che grazie al suo abbonamento con Prime Fa anche raggiungere il primo livello dell'hype train E quindi hype, siamo tutti felici e contenti Grazie mille a tutti quanti davvero di cuore per questo hype train Ma come dicevo, qui si parla, si racconta, si narra di novità Quindi, visto che sono tante come ogni settimana Perché io pensavo che, ora come l'estate si gioca di meno Dicevo, magari adesso inizia l'estate, inizia il caldo Magari inizieranno anche ad arrivare un po' meno notizie, un po' meno novità Ma invece col cavolo continuano ad annunciare tantissima roba E buongiorno, buongiorno Manuele Io sono Manuele e questa mattina mi sono svegliato Non mi viene una rima con Ele, purtroppo Purtroppo per voi che altrimenti avreste potuto sentirmi improvvisare una canzone Ma non ce l'ho fatta Ma comunque, dicevo, ci sono un sacco di notizie Quindi io direi che ci possiamo spostare di qua Per andare a vedere le prime pieno di miele E grazie Michele, ma infatti si vede l'artista che è in Michele La sua abilità canore e cantautoriali Perché è subito riuscito a trovare una rima Cosa che io non ho fatto Ma dicevo, veniamo subito a vedere alcune news Perché c'è stata una news, come recita anche il titolo Di un'acquisizione In quanto Funko, quelli che fanno le statuettine Che vi piacciono tanto Di Funko Pop Di tutti quanti i vari personaggi del mondo Delle serie tv, dei film, degli anime Vari personaggi dei cartoni animati Ha acquisito Mondo Ma Mondo chi è? Mondo è una casa editrice anch'essa Che anche si occupa in parte di Vinili Anche loro hanno tutta quanto una sezione Dedicata proprio a statuette E quant'altro Che è stata quindi acquisita Per una cifra che non si sa qual è Non è stata, non è stata rivelata Ma perché ve la narro questa acquisizione Acquisizione che stando a quanto riportato Sui canali ufficiali di Mondo e di Funko È dovuta al fatto che Mondo A seguito anche della pandemia globale Che c'è stata E appunto di quanti gli strascichi dovuti al covid-19 Non navigava in buone acque E quindi ha accettato Diciamo questa grande offerta Credo perché non si sa la cifra Comunque che c'è stata da Funko O Funko Che dir si voglia Per appunto essere acquisiti Ed inglobati Tutti quanti i dipendenti di Mondo Sono adesso diventati dipendenti di Funko Ma perché vi parlo di questa acquisizione? Perché come vedete anche un po' sullo sfondo Quelli che ci sono lì dietro Sono vari giochi che erano distribuiti Per l'appunto da Mondo Tra cui notizia che a me ha fatto un attimino Andare un attimino in ansia Perché Mondo sono anche i distributori worldwide Di tutta quanta la serie Unmatched Di Restoration E questo anche nei vari gruppi dedicati ad Unmatched Da subito fatto venire un po' di terrore Un pochino di strizza La Mondo faceva il ballone tango E un'altra Mondo E un'altra Mondo porgame offerte Ciao Sasha Non ti sei persa niente Primissima notizia È quella dell'acquisizione da parte di Funko Del brand Mondo Che dicevo ha fatto un pochino Stringere le chiappette A tutti quanti noi fan della serie Unmatched Perché Mondo era proprio il distributore Di Unmatched Grazie mille Gaetanos Benvenuto Gaetanos Benvenuto a bordo Grazie mille per essere qui in questa puntata di Next E quindi in realtà ha fatto un po' di paura Perché? Perché Funko ha già tutta quanto una sua linea Di un gioco skirmish uno contro uno Proprio utilizzando le varie Statuette Chiamiamole Comunque perché miniature sarebbe ingiusto Pupazzetti Pupazzetti Bamboline Altrettanto ingiusto Quindi Statuette Funko Ciao Simone Marco Ciao Ciao Grazie per esserci Avendo questa già Questa loro linea di giochi Uno verso uno Comunque Utilizzando per l'appunto Le statuette della Funko C'è stato un po' di timore Che hanno detto Ah beh ora che se lo sono acquisiti Figurati Se vogliono portare avanti La linea Unmatched Ma in realtà Buongiorno a te Gaetanos In realtà Restoration Game Che è l'editore Ideatore Proprio della linea Unmatched Ha rassicurato tutti quanti Dicendo no Perché i diritti di Unmatched Restano nostri Quindi anche se c'è stata Questa acquisizione Funko non ha voce in capitolo Su tutto ciò che riguarda Unmatched Quindi state tranquilli Che proseguiremo Con le varie uscite Della nostra linea Quindi Che cosa sta a significare Sta a significare Che adesso Anche titoli Che sarebbero usciti O comunque sarebbero stati sviluppati Internamente da mondo Verranno sviluppati in realtà Sempre dalle stesse persone Però legate Adesso invece Al marchio Al brand Funko Che sicuramente Essendo molto più grande Darà la possibilità Di lavorare In modo ancora Migliore Sicuramente A tutti quante Le persone Che già facevano parte Del E grazie mille A tutti quanti Perché l'Aptrain È stato un successo Funko pop Di tutti i personaggi Dei giochi da tavolo Chissà Chissà Potrebbe Potrebbe anche essere E potrebbero anche arrivare Dei Funko pop Magari più destinati Al mondo Di noi giocatori da tavolo Per quanto Funko pop Come vi dicevo Già era all'interno Del mondo Dei giochi da tavolo E quindi Già aveva tutto quanto Una sua linea E più tutti quanti i titoli Anche fortemente legati A brand Di serie tv O film Basti pensare Basti pensare ai giochi Sviluppati dal Dal team Prospero Hall Che non è una sola persona Ma è un gruppo Di game designer Che hanno fatto Ad esempio con Funko Hanno fatto il gioco Dei Goonies Per nominarne uno Degli ultimi Che è finito Anche sul nostro tavolo Ciao Marco Dissa Buon inizio di settimana Anche a te Quindi apriamo Con questa notizia Di questa acquisizione Che in realtà A noi giocatori Come dicevo Tocca fino a un certo punto Perché è stato assicurato E' stato assicurato Che non cambierà nulla Per noi giocatori Da questo punto Di vista Legato ai vari titoli Che sarebbero dovuti uscire O che comunque Sono già usciti Ma un passo per il solito Saluto Grazie mille Dancefloor Buon appetito A più tardi Quando tornerai Fin verso le 2 2 qualcosa Ci troverai ancora qui Mi troverai ancora qui Ma ci Questo plurale Ma è statis Perché come sapete Su questo canale Non ci sono soltanto io Ma andiamo avanti Perché c'è stata Un'altra notizia Che potrebbe interessare Qualcuno di voi Che riguarda il Monopoli Perché? Perché hanno annunciato Adesso scusatemi Ma vi voglio dire Le cose con precisione Quindi mi vado a recuperare Al volissimissimissimo La news In un secondo Perché ce l'ho qua Eccola Hanno annunciato Un camp estivo Dedicato al mondo Della finanza In cui sarà Uno dei vari protagonisti Delle varie attività Che verranno fatte A modi stage Durante il Durante questo summer camp Sarà proprio il Monopoli Che insegnerà Non come mandare In bancarotta I propri avversari Per poter vincere Ma in realtà Volranno utilizzare Nelle varie attività Che faranno Durante questo summer camp Che si terrà Ve lo dico con precisione Allora sarà Tra giugno Luglio E agosto E grazie mille A Gabgame GE Grazie mille Per aver rinnovato L'abbonamento Sarà per bambini Dai 9 anni Ai 17 anni E si terrà In Ero andato a Vedermelo In America Per la precisione In Annaggia Adesso non lo trovo più Perché non me lo sono Riletto Prima di iniziare E Niente Adesso non vi trovo più Il Posto Esatto In cui lo Andranno a fare Ma ci saranno Per appunto Tutti quanti i giorni Dei daily topics Quindi degli argomenti Della Gli argomenti Della giornata Gli istruttori Di questo Di questo camp Estivo Faranno varie Attività dedicate Anche al mondo Della finanza Utilizzando Per l'appunto Anche la Il Supporto Del monopoli Questo perché Perché Cosa che io Effettivamente Condivido Tantissimo Non viene Insegnato In America Ma così come In America Anche in Italia Non c'è Un vero Percorso A livello Scolastico Legato a Quello che è Il mondo Della finanza Dell'economia Banalmente Il Sapersi gestire I soldi Cioè io Mi ricordo Che nelle serie TV Quando eravamo Ragazzini Noi c'era Economia domestica No? Come Materia Che veniva Fatto Ma che effettivamente è una cosa che manca tantissimo nel nostro sistema di istruzione E che anche stando questa questa inchiesta comunque questi vari sondaggi che hanno fatto Anche in America lo US National Endowment for Financial Education Rivela che come l'88% degli adulti credono che sia necessaria prima della graduation Quindi prima di prendere Di concludere il percorso di studi con il diploma delle scuole superiori Essenziale sarebbe fare anche maggiori corsi di finanza E quindi hanno proprio pensato di fare questi campi estivi dedicati proprio a questo argomento Tra cui uno degli strumenti che verranno utilizzati nel corso di questo camp estivo Sarà proprio il Monopoli Ciao Antoine Ben arrivato Grazie mille per esserci Quindi titolo che solitamente poi ben lo sappiamo viene spesso e volentieri bistrattato Ma ecco che il Monopoli ancora nonostante l'anno di rilascio sia mi pare il 39 Ancora ha qualcosa da dire e sicuramente ha degli elementi utili per insegnare ai piccoli Come in questo caso piccoli e meno piccoli Perché dai 9 ai 17 anni ha pensato questo campo estivo Ecco che comunque alcuni elementi legati al mondo della finanza Finalmente alla gestione del denaro Possono essere utilizzati e insegnati per permetterci a tutti quanti di arrivare in età adulta Avendo già anche dei principi di quello che potrà essere la finanza, l'economia Il saperci gestire i soldi Cosa che effettivamente nessuno ci insegna Se non la vita di tutti quanti i giorni Ma arrivare preparati, già sapersi leggere fondamentalmente anche una busta paga Cosa che finché non ne ricevi una non hai neanche idea di come sia fatta Cosa sono i contributi, perché questi soldi me li hanno scalati Cosa vuol dire, ma quanto guadagno, ma quando avrò il prossimo scatto di anzianità E perché, tutte cose che bisognerebbe effettivamente essere consci di sapere Già prima di arrivare ad affrontare magari il nostro primo colloquio di lavoro Ma comunque, a parte questa mia divagazione Marco disse, una notizia molto interessante Visto che siamo a lavoro, stiamo proprio progettando un gioco da tavolo Per insegnare l'economia di base Esattamente quello che si propone di fare anche questo camp estivo Buongiorno anche a Tonino Pinguino Ben arrivato E ho detto, io lavoro da un anno e ancora non capisco cosa ci sia scritto Ma ti capisco alla perfezione In Pecorator Ti capisco alla perfezione Soprattutto se pensi che io, ad esempio, che dopo tanti anni di lavoro dipendente Ho deciso, ormai da un paio d'anni, di aprirmi una partita IVA Ed entrare nel fantastico mondo delle imprese Facendo questo lavoro qua di content creator Ecco, essere preparato anche a capirci qualcosa di più E non andare dalla commercialista e dirgli Io non so niente, non capisco niente, per favore aiutami Ecco che forse sarebbe stato opportuno E quindi ad averlo avuto un campo estivo del genere Non solo perché ti fanno giocare Ma perché i giochi vengono sfruttati proprio per anche nuove competenze E grazie mille a Falbit Ben arrivato Grazie mille per essere qua Ah, questa è Dungeon Dice TV Io sono Alberto dei Gioca Giullari Come ogni lunedì alle 12.30 Siamo qui con Next per parlare di un po' di notizie Che arrivano dal mondo dei giochi da tavolo Anche notizie un po' collaterali come questa Ma anche notizie molto più precise Perché già qualche settimana fa vi avevo parlato Del lancio del Kickstarter Di un Kickstarter Di una casa editrice italiana Kickstarter che è stato ed è attualmente Almeno ieri sera era bloccato Controlliamo se lo è ancora Ma penso di sì Esatto E ancora Oggetto di una controversia per proprietà intellettuale Non è disponibile al momento E sto parlando del Kickstarter di The Breach Della Ludus Magnus Studio Che ha avuto appunto C'è stata questa notizia di cui mi andava di parlarvi Non voglio entrare nel merito della questione in sé Perché non ne so assolutamente nulla E non voglio fare assolutamente Come si dice Cioè non voglio dire cose che poi non siano vere Ok? Non voglio fare illazioni Ecco il termine che stavo cercando Non voglio fare illazioni di alcun tipo Ma magari qualcuno di voi si è perso questa notizia Che mi andava comunque di condividere e commentare assieme a voi Perché il Kickstarter di The Breach è stato per il momento sospeso A causa appunto di questa controversia Legata alla proprietà intellettuale Perché? Che cosa è successo? È successo che all'interno di The Breach Di una delle due espansioni C'erano questi due personaggi C'erano questi due personaggi Sister e Vix Mi sembra Aspettate che lo vado a controllare Praticamente era un piccolo pack di espansione Quindi una Una risorsa Una scusate Vi volevo cercare il nome corretto Che non lo trovo più Vediamo un po' 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 La 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 Valla a trovare adesso Tra l'altro Allora Allora Ma lo troverò Lo troverò Se mi date un istante Eccola qua Sister vs Blinks Che sono questi due personaggi Che erano stati introdotti In questa esclusiva del Kickstarter Questo pack di espansione Possiamo chiamarlo Con questi due personaggi Ma che è stato Per l'appunto Sospeso Bloccato Non espansione Erano degli early bird Grazie mille Yoko Game Studios E come dice anche Fondamentalmente Impecorator Scusami che tutte le volte Mi rallento a leggere il tuo nick League of Legends La Riot Proprietaria di tutto quanto Il brand League of Legends Sostiene che Siano dei plagi O comunque Siano state fortemente Troppo ispirate A questi due personaggi Di League of Legends Che sono V e Jinx Giusto? Perché io Come state notando Io non so Assolutamente Non conosco League of Legends Ok l'ho detto L'ho detto Picchiatemi Ciao Luca86Luke Ciao Benvenuto Luzus Magnus Studios Ha rassicurato Tutti quanti I Baker Tutti coloro Che stavano seguendo Il progetto Che assolutamente La cosa si risolverà Ho letto online Che comunque La Riot È solita magari A mettere subito Un fermo Schierare subito Gli avvocati Quando si va A vedere qualcosa Che potrebbe Anche lontanamente Essere Accusabile Di plagio Lo so Che sono anche Le due protagonisti Di Arcane Lo so A Pint of Guinness Infatti ce l'ho lì Da vedere So che questi due Sono anche i protagonisti Di Arcane Ci sta Luzus Magnus Ha detto Noi volevamo Semplicemente Fare un Un omaggio A questi due A questi due Personaggi Ci sta che magari Adesso andranno Poi a modificare A sostituire A rimuovere O a fare Quello che Ci sarà da fare Legato per l'appunto A questi due Questi due personaggi Intanto Luca dice Ma a sto punto Anche Nemesis Potrebbe essere accusato Di plagio Ni Non lo so Onestamente Perché non è minimamente Il mio campo Non è una cosa Di cui Di cui so parlarvi Con Con precisione Un omaggio Un Come si dice Un punto Ho voluto fare Un richiamo A quella roba lì Penso che ci stia Da come ho letto Online Riot è Solita anche Avevo letto Di un fumetto Che si chiamava Arcane Che anche Quello L'hanno subito Mi hanno subito Mandato una red flag Dicendo No Voi state copiando Il nostro Arcane Poi hanno guardato In realtà si chiamava Arcane Ma parlava di tutt'altro Non c'entrava nulla Con loro E ho detto Ah ok scusate Quindi ci sta Che la Riot Preventivamente Metta subito Le mani avanti Magari schierando Subito gli avvocati O non so come funziona In questo caso Ma mi immagino Possa funzionare In questo modo E quindi Per adesso Il progetto È ancora Sospeso Ma la Ludus Magnus Ha assicurato Che la cosa Si risolverà Verrà risolta Non so se Questi due personaggi Li vedremo ancora All'interno di The Bridge Ma quando ci saranno Più informazioni Sicuramente Ne riparleremo E per quanto riguarda Nemesis Sì effettivamente È molto ispirato Alien Però come ti dicevo Non so quali siano I limiti Deve essere Tutta una zona Molto grigia E si cammina Sempre molto Sulla lama del rasoio Secondo me In questi casi qua Perché bisognerà Dimostrare A un certo punto Credo Cosa è Plagio Cosa è Un Invece un omaggio Un tributo Cosa è satira Cosa è Insomma È sempre tutto quanto Molto lì Molto Molto in vita Ma siccome è stata una notizia Che è rimbalzata parecchio In questi giorni Mi andava di parlarvene Ma al di là di queste notizie Così un pochino più estemporane Con cui ho scelto di aprire Questa puntata di Next Si è fatta l'una E quindi Signore e signori Entriamo un po' Nella ciccia Di questa puntata Perché Partiamo come sempre Dall'estero Arrivano alcune notizie E la prima riguarda Marrakesh Primo titolo Originale Omaggio Tributo Riconoscimento Esatto Bisogna sempre andare Un pochino a capire In che In che settore Stiamo Stiamo andando a parare Ma Marrakesh Nuovo gioco Di Stefan Feld Che ha firmato Per l'appunto Assieme a Queen Games Questa City Collection Di cui Come leggete Anche sulla copertina Questo è il quarto titolo Che esce in questa linea Che era passata Un anno e più fa Su Kickstarter Che sono state In realtà I primi tre titoli Riedizioni Di vecchi titoli Di Feld In una nuova veste Hanno ristampato Bruges Hanno ristampato Macao Hanno ristampato Rialto Dandogli però Dei nuovi nomi Ambientandoli In nuove città Invece questo Marrakesh È il primo titolo Originale Che esce In questa linea E perché ve ne parlo adesso Perché il titolo Dovrebbe arrivare Quest'autunno In Anche in Versione retail Ma qualcuno È finalmente riuscito A provarlo Nella sua versione Definitiva Ovvero L'ho trovato Sulla pagina Facebook Di Man vs Meeple Ciao il pubis Ciao carissimo Ben arrivato Come sapete Creator americani Molto attivi Molto famosi Anche nel Nel camp La Vale ha già scarrellato Sai che non è questo Fede Sai che non è questo Il titolo Che vale Obbligherà A scarrellare Ma questo Marrakesh Che cosa tratta Vediamo Finalmente Delle immagini Del gioco Non è questo Fabio Quello che la giulla Ressa vuole No 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 Cioè lo vorrà Ma ne vorrà un altro Molto di più di questo Le prime impressioni Date da Man vs Meeple Lo trovate anche appunto Sulla loro pagina Facebook Che il gioco È gigantesco Prima cosa Come vedete Perché questo qua È solo il tabellone centrale Più ogni giocatore Avrà una sua plancia Personale E più manca ancora Un altro elemento centrale Che è quello Della torre Torre lanciadadi Che già avevamo visto Sempre di Feld Sempre con la Queen Game In Amerigo Perché La Queen Games Ha questo Appunto Questo diritto di utilizzo Di questa torre Lancia cubetti Che già aveva Introdotto All'interno di Shogun E se non mi sbaglio Anche di Immortals Non mi sbaglio Si chiamava sempre Immortals Altro titolo Che utilizzava Questa torre Randomizzatrice Di cubetti All'interno della quale Vengono per l'appunto Buttati dei cubetti In vari colori Ma alcuni Vengono trattenuti All'interno di questa torre E solo alcuni Vengono rilasciati E quelli che vengono Rilasciati Possono essere utilizzati Per fare cose All'interno del gioco Idem In questo Marrakesh Si utilizzerà Questa torre Ma non solo Perché noi avremo Anche sulla nostra Plancia personale Che è questa Vari distretti Nei quali andare A posizionare I nostri assistenti Per attivare quel distretto E ottenere robe diverse A seconda del distretto Che saranno Via via più potenti In base ai Pirulicchi colorati Che andremo a mettere All'interno di quei Di quei distretti Quando li potremo Prendere Dalla nostra Quando li potremo Prendere dalla torre Perché Attivare un distretto Ci farà fare la sua azione Leveremo tutti quanti I pirulicchi Che sono in quel distretto E li andremo a ributtare Nella torre Dalla torre Verranno quindi Rilasciati dei pirulicchi Che noi potremo Prendere per andare Via via Potenziare a potenziare Altre azioni E idealmente Più attendiamo Per attivare Un nostro quartiere Più probabilmente Saremmo riusciti A prendere Pirulicchi di quel colore Per potenziare Quel tipo di azione E quindi Andarla a fare Nel modo più Performante Possibile Sono curioso anche Di sapere cosa voglio Ma vedrai Vale Vedrai La risposta è tutto E volevo chiedere Ma pirulicchio È un termine tecnico Assolutamente sì Lupigio Fa proprio parte Della Della Come si chiama Oggi non mi vengono Le parole Del vocabolario Dei giochi da tavolo Proprio nella Dicotomia Descritta Nel 1800 Dai primi Game designer Ecco che Pirulicchio Sottende Elemento di forma Cilindrica L'ha utilizzato Per vari Propos All'interno Dei vari giochi Da tavolo Quindi assolutamente sì Quello che mi ha colpito Di questo titolo Che ha sicuramente Appunto Di nuovo in comune Con Amerigo Con altri giochi Della Queen Game Il L'elemento Della Della torre Randomizzatrice Non di cubetti Questa volta Ma di Cilindretti Anziché Anziché no Noti come Pirulicchi Ma Mem vs. Mimple Dice Ci troviamo Probabilmente Di fronte Al gioco Più pesante Fatto da Stefan Feld Il che Mi lascia lì Perché se io vado a pensare Ai giochi più Pesanti Cervellotici Spacacervello Spremi meningi Di Feld Mi viene sicuramente In mente Un Aquasphere Che Io lo trovo Bellissimo Ma sicuramente Uno dei suoi titoli Più per Hardgamer Se questo Si promette Di essere Ancora di più Benvenga Non so se può essere Solo un Impressione data Dalla grande Quantità di materiale Che c'è Perché questa qua È la nostra plancia Su cui noi andiamo a fare Le nostre azioni Potenziate Eccetera Eccetera Ma su questa plancia Centrale Oltre a una marea Di tessere Che potranno Rappresentare Varie cose Non so Ci sono anche Vari tracciati Come vedete Lungo i quali Salgono dei nostri Avanzano sul fiume Salgono su quella Specie Quel Scale Di tempio Uno bianco Uno nero Toccherà Avere un equilibrio Ma vedete che La scala di destra E la scala di sinistra Sono collegate Da delle linee Con in mezzo Dei pallini colorati Quando un nostro mino Sarà su uno scalino E l'altro sull'altro Lo andremo a Ottenere dei bonus In più Non ne ho la più pallida idea Perché per ora Non si sono ancora Sbottonati Su questo funzionamento Ma quel tabellone Multistrato Ne vedo almeno Tre Peserà 7 kg Sì Assolutamente sì Le plance sono Double layer Come potete vedere Sì E tra l'altro Quello lì di destra Sembra anche Che abbia una ruota Che gira in mezzo E quello in alto Sinistra Sembra che quella Plancia centrale Sia sostituibile Ce ne saranno Più di una Non lo so A me tutta Sta roba Mi fa venire Il mal di plancia E grande Lupigio Grandissimo Durate il gioco 70 minuti E boh Staremo Staremo a vedere Sono una barca Di materiali Io so solo Che lo voglio Io anche sono Sono molto molto curioso Durate il gioco 70 minuti Di cui 50 Per intavolarlo Molto molto probabile Molto molto probabile Oppure 70 minuti Per giocatore Che è anche Che è anche Plausibile Effettivamente Ehm Aspettate Ora qua Lo controllo Perché Marra Keshe Di Stefan Feld Eccolo qua Tatatata No non è questo Scusate Ho sbagliato Marra Keshe Questo qua Sono No mi da 120 minuti BGG Quindi è probabile Che siano Sì Un Sì Ci sta Che sia Che sia Bello tosto Bello Bello lunghetto E con Come vedete Un sacchissimissimissimo Di materiali Lo vedremo Secondo me A Essen E quindi Lo scopriremo E se ne parlerà di più E bello anche l'altro Marrakesh Comunque Sì sono d'accordo Quello dei tappeti Molto Molto carino Molto carino Anche quello Ma dopo questo Titolo di Feld Ecco che arriva Un'altra roba Molto molto grossa Che è il La big box Di village Anche questo In questa settimana Probabilmente Qualcuno di voi Già l'ha visto Perché l'ho visto Rimbalzare su Su facebook Ricondiviso Da un po' di pagine Perché village Che non si trovava Non si trovava più Anzi se Qualcuno di voi Più attento E più fortunati L'hanno Un paio Di anni fa Un paio di anni fa Potevano averlo preso Anche su DungeonDice.it Utilizzando i vari sconti Che trovate Sul nostro sito Che vi ho appena Mandato in chat Nel caso Era stato Lo si trovava Nel fuori tutto A 15 euro Il gioco base Di village Nella vecchia edizione Che Boh Chissà perché Ma Viene un po' Da pensare Che magari L'editore originale Avesse voluto Farsi fuori Magari Alcune Alcune Ultime copie Già in previsione Di questa big box Chi lo sa Ma in questa big box Noi avremo anche Le due espansioni Già uscite di village La village in Quella che aggiungeva Le locande La birra Mare lo vendeva A 15 euro E ci stava pure Perdendo Esatto Esatto La in Quella che vado A aggiungere Le locande E la birra E la port Che andava a sostituire La parte del viaggio Con questa parte Di viaggi Ma questa volta Per nave E questa big box Va anche a introdurre Oltre a tutte le promo Uscite negli anni Anche una terza Nuova espansione Nuovissima Pensata Proprio solo Ed esclusivamente Per village Ma Ma Come vedete Noi avremo sempre Se non sapete Come funziona village Noi avremo Una famiglia Di omini Che faranno cose In giro per la mappa Ogni cosa che faremo Ci farà Spendere tempo E il tempo Man mano che passerà Permetterà ai nostri omini Di invecchiare Quindi diventare Più abili A fare quello Che stavano facendo Quindi se manderemo Qualcuno al mulino E invecchiando Diventerà più abile Lavorare al mulino Prenderà Migliori cose Ma a un certo punto Come capita Anche nelle migliori famiglie Il tempo passa E alcuni dei nostri personaggi Passeranno a miglior vita E quindi c'è proprio Questa gestione del tempo E anche proprio Della vita e della morte Dei membri Della nostra famiglia Che cercheremo di Comunque ricordare Rendere illustri E magari farli anche segnare Sul libro delle memorie Sul libro delle storie Del villaggio In quanto Con cittadini Illustri Del passato E dato molto Alla savonarola Ricordati che devi morire E salutiamo anche Troisi e Benigni E non ci resta Che piangere Tanto quindi Lavoro Vai Fatichi E poi muori E salutiamo anche Bazz Che ci guarda Che ci guarda Sempre Ma vedo grafica nuova Più cartoon O sbaglio Ecco qua Fabio Che infatti Andiamo a vedere Un attimo Questa grafica nuova Perché a me Fa abbastanza Care Io la trovo Brutta Questa nuova grafica Allora c'è da dire Che le espansioni Quello che erano le espansioni Sono state Implementate Direttamente sul tabellone E quindi Non servirà più Come nella vecchia edizione Di mettere sopra Nuovi pezzi di tabellone Ad andare a sostituire Quello che Quello che Che era Però a me Non piace A me piaceva Molto di più Il vecchio tipo Di illustrazioni Michael Manzer Che è un illustratore Di giochi da tavolo Che a me piace un sacco Però questa nuova grafica La trovo Non lo so Mi sembra molto più Povera Mi sembra più Non lo so Ve la Ve la ingrandisco un attimino Questa L'ho sbloccato Sì Perché non mi va Ok Dicevo ve la ingrandisco un attimino Perché Cioè Guardate Non lo so Mi sembra più Più po Più povera Meno Non lo so È tanto più Stilizzata Non lo so Non mi Non mi piace Non mi piace Sicuramente come dice Fede Bisognerà capire Con la giocabilità Come sarà Però Guarda Giusto per Perché ce l'ho qua Due passi No Eccomi Sono già tornato La grafica Del vecchio village Era decisamente Più Più bellina Secondo me Giusto per Darvi Un'idea E farvi Un paragone Ritorno grande Ritorno grande Così la vedete Eccola qua Cioè Io la trovavo più Mi è cascata No Cioè Ora guardate questa Cioè guardate qua Il maniscalco La fattoria La casa del sindaco Ok La chiesa Le vedete Sì E poi Guardatevi questa Cioè la chiesa Guardate che differenza C'è di chiesa Da questa A quella Dai Questa è una Molto più bellina A mio gusto A mio gusto Per carità Io poi magari Ho gusti di cacca Non lo so Magari Un grafico Mi dirà No ma questa Wow È fantastica Io da Ignorante Totale In materia La vecchia edizione Mi divertiva di più Ho detto Anche prima Un messaggio di Sasha Lo recupero Io volevo village Ma la moda Big box Inizia Non piacermi tanto Ma allora Da un'altra La big box È comoda Per chi Come te Magari Sasha Appunto Non hai nulla Del gioco In una botta Sola Ti pigli tutto Ti recuperi tutto E anche tanto Per un collezionista Che dici Ah cacchio Lì dentro Ci sono anche Tutte le promo Che non sono mai Riuscito a recuperare Negli anni La voglio Effettivamente Capisco E dici Ma se a me Anche solo Il gioco base Mi dà soddisfazione Perché Dovermi prendere Anche altra roba Per me Che sono Solitamente abituato A prendermi anche Le espansioni Dei giochi Le big box Effettivamente Ci stanno Se non Quando escono Di roba Di cui ho già tutto E però lì C'è quella nuova Espansione Allora ti viene da dire Ah Adesso come faccio Senza quella nuova Espansione La voglio Sembra disegnata Da un bambino Decisamente più bella Quella vecchia Meno male Che non sono l'unico Non sono l'unico A pensarla così Così le tombe sono più belle Ti invita a schiattare Più felicemente Parla parte con paint Con le clip art Questa grafica è un po' minimal Come va adesso Nel mondo del design In generale Ma infatti ci sta In pecoretor Come ho detto Io non sono assolutamente Un esperto del genere E quindi non ne capisco Assolutamente nulla Però a mio gusto Magari ci sta Effettivamente Che dite Eh ma grafica così Bella bella Però poi non capisci Una fava Di dove devi mettere I tuoi omini Di dove devi fare Le cose Però io che sono Vecchio E mi piacciono le cose Vecchie Allora mi ci trovo Mi ci trovo meglio Magari E anche banalmente Solo questione di abitudini E il mio occhio Abituato a immaginarsi Se penso a Village Penso a quella roba lì E vedermela fatta diversa Mi stranisce Tutto lì Il mio grafico Per 30 euro Mi faceva anche le unghie Esatte Salutiamo anche Aldo Giovanni e Giacomo Comunque Arriverà la big box Di Village Se non ce l'avete Bel gioco E Gli sta a me E uno di quei giochi Che in primissima battuta Non mi aveva colpito Da impazzire Poi L'avevamo poi ripreso Anche facendoci ingolosire Dalle offerte di Mario E l'avevamo rivalutato Rivalutato Assolutamente Ma siete pronti Per il prossimo titolo Perché Vi ricordate gli autori Di Canvas? Vi lo ricordate? Vale Te lo ricordi? Canvas Sempre che gli autori Di Canvas Hanno fatto Un nuovo gioco La Road to Infamy R2i Games Ha fatto un nuovo gioco Questa volta A tema A tema Viaggi Globetrotting Nel quale Noi dovremo Cercare di Creare il nostro Piano di viaggio Non di un viaggio Ma di tre viaggi Che faremo in primavera In estate E in autunno Cercando di raggiungere Varie mete Ma allo stesso tempo Di non spendere Troppi danari Perché è bello viaggiare Ma se andiamo a spendere troppo Forse meglio di no Mi piace come l'Italia Sia rappresentata Dalla torre di Pisa Che è la cosa Che all'estero Quanto pare Più riconoscibile Più riconoscibile Al mondo Dell'Italia Ma che particolarità Ha questo gioco Perché se in Canvas La particolarità La cosa che colpiva l'occhio Erano queste fantastiche Carte trasparenti Da poter sovrapporre L'uno all'altro Per creare I nostri dipinti Cercando di soddisfare Gli obiettivi Qua Faremo un po' All'Atticket to Ride Prendendo delle carte Che ci permetteranno Di collegare Varie zone del mondo Ma qual è la particolarità E che lo faremo Come vedete Con tutti Con i nostri passaporti Scriveremo le destinazioni Che vorremmo raggiungere Destinazioni Che andremo a tracciare Direttamente Sul nostro mappamondo Perché ogni giocatore Avrà un mappamondo A sua disposizione Sul quale Con un pennarello Tracciare le tratte Con le quali Si collegaranno Le varie località Gireremo tre carte Tipo lì Che abbiamo Cosa c'è scritto Che Thailand L'Isola dei Gatti Santorini E Santiago Saranno le nostre Tre punti di partenza Uguali per tutti quanti I giocatori Del nostro viaggio Di primavera Del nostro viaggio D'estate Del nostro viaggio Di autunno Avremo degli obiettivi Pubblici A seconda del numero Di giocatori Quando si gioca in tre O più Avremo degli obiettivi Magari condivisi Con il nostro giocatore A destra Con il nostro giocatore A sinistra Nel quale Magari dobbiamo cercare Di incontrarci In certi momenti Dei nostri viaggi Per fare più punti Quindi ci sarà anche Un minimo di collaborazione Con i nostri vicini Per quanto sarà Un gioco competitivo Tipo di obiettivo Che non ci sarà Nelle partite a due In quanto avremo Degli obiettivi comuni Però Che ci richiederanno Di fare cose diverse Se ogni giocatore Avrà degli obiettivi Nascosti Per esempio In autunno Dovrai aver raggiunto Almeno tot Visitato tot posti O dovrai aver speso Meno di tot E come vi dicevo Noi andiamo a Scrivere direttamente Sul nostro mappamondo Perché vedete Che noi abbiamo Il mappamondo Che è dentro Questa boccia Di plastica Ok Mappamondo Che girerà Girerà su tutti quanti Gli assi E la robina Che abbiamo attorno Vedete che c'ha Una freccia gialla Che punta Noi andiamo a puntare Questa freccia gialla Nella direzione In cui siamo In quel momento Con uno dei nostri Tre viaggi Con il nostro Piano di viaggio E un roll and write Gira il mappamondo E ci scrivi sopra Sì fede Sì 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 Come Italia Con la bandiera ungherese Vuoi vedere Sì che non ci ho fatto Ma no Vabbè Ma dai Ma hai colori Dell'Italia Sì che hai scritto In verticale Ma non è Non è la bandiera ungherese Dai Dicevo Tu Che ne so Siamo a Roma Io metto la freccina Che punta su Roma Dove devo andare adesso Ah Devo andare a New York Giro il mappamondo In modo che New York e Roma Siano Entrambi sulla linea Dell'equatore Diciamo E poi col pennarello Tiro la riga A collegarle Quanto sarà lunga Quella linea Vedete che ci sono Dei numerini Su quella Su quell'anello All'altezza dell'equatore Mi dice Quanto sto spendendo Per fare quel viaggio E Da che età sarà Bella domanda Cerchiamolo subito Cerchiamolo subito Se è un'informazione Già nota Secondo me 14 più Mi da Borgain Geek Mi sembra tanto Onestamente Mi sembra tantino Mi sembra tantinino Ma giusto per darvi un'idea Ho fatto Ho preso Questa foto Perché Vedete che comunque È bella grossa La La nostra Il nostro mappamondo Rispetto alle mani Del signor Road to Infamy Che Il signor Road to Infamy Di cui Questo qua È un Estratto In forma immagine Di un mini tutorial Che c'è Comunque online Che volete Che volete avere Esatto Probabilmente un 14 più Perché per avere il passaporto Servono 14 anni Potrebbe essere Potrebbe essere Ehm Non è tardi Salvati da Paola Ma i mappamondi Si sgonfiano Per rimetterli via Secondo me Sono due metà Incastrate Che Scastrerai E Metterai Una dentro l'altra Quindi ci sarà Lo spazio per quello Però effettivamente Bellissima domanda Netted Dreamer Però no Perché è plastica rigida Ok Quella dei Dei mappamondi Però secondo me Sono disassemblabili A metà Tanto quanto E E poi O magari c'è una scatola E Abnorme Che ci consente Di tenerli All'interno montati Non lo so Non lo so Devo dire Che la mappa sotto Non mi fa impazzire Con tutti i tagli Potrebbe essere Una necessità Produttiva Credo Fede Comunque come gioco Mi sembra Semplice nel suo svolgimento Perché appunto Noi avremo le nostre partenze Si gireranno Ogni turno tre carte E ogni giocatore Simultaneamente Sceglie Sceglie Quale delle tre Destinazioni Collegare A uno dei suoi Tre viaggi Quindi pur partendo Tutti dalla stessa Situazione di partenza Avendo degli obiettivi Comuni Ma degli obiettivi Privati diversi Comunque si svilupperà In modo diverso Gli uni dagli altri E Chi lo sa Sono Sono curioso A Natale puoi usarli Per adobare l'albero Esatto Secondo me il principio È un po' quello Sono tipo quelle Spalle Trasparenti Che poi Si usano Per fare tipo Decoupage Quelle cose lì Che crei tu Il paesaggio invernale Oppure le dipingi tu sopra Secondo me Peccato L'ho fatto giocare Volentieri I miei figli E così imparano Un po' di geografia Ma secondo me Ti dico Dalle regole Dali chicchi Non mi sembra Così complicato Ok Perché Come dici Ti dicevo Noi abbiamo tre città di partenza Si girano tre carte Ok Scegli se vuoi Nel tuo viaggio primaverile Andare Alle Bahamas O nel viaggio estivo Andare a Rio Di Jameiro O nel viaggio invernale Andare a Caponord E Vai Colleghi E poi si girano altre carte Vai E colleghi E devi cercare Di fare Gli obiettivi Intanto Come livello di complessità Mi ha dato l'idea Di un ticket to ride Comunque Non lo trovo Così complicato Non so perché Su BGG Riporta 14 più Ma Come sempre Sono dati Da prendere Molto con le pinze Perché io vado su BGG Metto un 2 più E magari me lo pubblicano Perché sono l'unico Che ha scritto 2 più Quindi da prendere Molto con le pinze Però In particolare Comunque Questo utilizzo Fisico Del mappamondo Per collegare Poi vabbè Vedete che ci sono Vari simbolettini In giro per la plancia Perché alcuni obiettivi Ti chiederanno Ad aver collegato Certi simboli Eccetera Però mi sembra Mi sembra curioso Mi sembra curioso E assai Assai divertente E Chissà Chissà Arriverà in italiano Boh La Road to Infamy Alcuni loro giochi Sono stati portati in Italia Da Gate on Games Ma di questo A me Al momento Non hanno ancora Comunicato nulla Perché magari No O magari Non si sa O magari Boh Quindi Va a sapere E c'è un altro gioco Di cui vi parlo adesso Ma dentro i mappamondi Ci sono le bottiglie di alcoli Ci potrebbe essere un'idea Potrebbe essere un'idea Per farne una versione Da capodanno La scatola Ha la maniglia Come una valigia Una big box Già senza espansioni Sì 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 La scatola È proprio a forma di È proprio a forma di Valigia Per il viaggio È molto carino Ma come già anche Canvas Che è anche la stessa Scatola di canvas È creata apposta Per essere A mo' di quadro Ed essere appesa In casa Come noi Ce l'abbiamo appesa Vorrei farvela vedere Ma mi sa che faccio casino Se giro Faccio casino Aspettate Vediamo un po' se riesco A farvela vedere Eccola Sì sì La vedete Vedete È appesa al muro Quella è la scatola di canvas Che Che è lì Perché si può appendere al muro Come un quadro In un gioco in cui Fai i quadri Quindi in un gioco in cui Viaggi Ci sta che la scatola A forma di valigia Sia proprio una valigia Effettivamente portabile Portabile in giro Comunque canvas Appeso al muro Fa la sua porca figura Ma dicevo Altro gioco che mi ha colpito Perché qua È bello il fatto che Usi il mappamondo Per collegare vari luoghi Farti le tue tratte Vado di qua a là Cerco di fare gli obiettivi Ed è anche un'interazione 3D Con una cosa Che solitamente Si era vista finora Magari appunto In piatto Magari sulla mappa Di Ticket to Ride Sasha non arriva ancora adesso Ma arriverà Arriverà Me l'hai chiesto Ti avevo promesso Che ne avrei parlato Ne parliamo Ma non ancora adesso Perché è stato annunciato Un altro gioco Dalla Sitdown Games Casa editrice francese Di cui per adesso Non ci sono ancora Grosse immagini Se non due Work in progress E questo gioco Si chiamerà Redwood Bosco Rosso Ed è un gioco All'interno del quale Noi siamo dei fotografi Che devono fotografare Vari animali In giro per il bosco E la cosa particolare Che hanno messo Nella descrizione Del gioco E che noi dovremmo farlo Tenendo tra Ve lo vengo a leggere Con precisione Perché non voglio dire cagate Ma Allora È un gioco Di Stima Di movimenti E di angoli Di vista Dove i giocatori Cercano di fare Foto degli animali Selvaggi Per fare il panorama Migliore Senza però Disturbare gli animali E Non ho ben capito Che cosa voglia dire Questa cosa Un gioco Sulla stima Delle distanze Redwood dovrebbe essere Un parco naturale Stato unitense Grazie mille Dell'info Fede Non lo sapevo Illustrazioni magnifiche Questa Penso sia Un'idea Di come Sarà Parte della plancia Non lo so Però ci sono Questi cinque settori Diversi Con queste cinque tipologie Di Di habitat Diverso Quindi da quello più Lacustre Quello più secco Quello più montuoso Quello più boschivo Ok E C'è una foto Del prototipo Che è questa Che è tutta un'altra roba Però Cioè La plancia sarà rotonda E ok Ma secondo voi Che cavolo vuol dire Un gioco di stima A Redwood È un tipo di sequoia Grazie mille Tiger Cat Grazie Cosa vuol dire Secondo voi Un gioco Sulla Sulla stima Aspetta che ve lo rileggo Allora Un gioco di Stima di movimenti E angolazioni Di vista Che cacchio Cosa si farà In questo gioco Non si sa Però 2-4 giocatori Dagli 8 anni Dove durate circa 45 minuti I giocatori Nel loro turno Scelgono Tra diversi movimenti E angoli di vista Che si materializzano Tramite elementi Di plastica Per Catturare Gli animali In foto Ovviamente Non catturarli davvero Ma catturarli Con una fotografia Senza disturbarli E a seconda Di che cosa Riuscirei a fotografare Farai I punti Dura 5 turni Eccetera Però non lo so Cioè mi ha Mi ha stranito Questa Questa descrizione Del gioco Ho visto qualcosa Della Sit Down Games Ho fatto il play Di Tiwanaku E avevano mostrato Un concept Ai Baker Ok Sembra lo sfondo Preso da Google Art Con parecchio zoom Sì Questa Questa immagine qua Sì Sì Ci sta Effettivamente Ci sta Stima di movimenti Forse intende una sorta Di previsione Dei possibili movimenti Può essere Obakemono Può essere Forse come fare la foto Senza farsi scoprire Dall'animale Alla fine Tirerai un dado Con scritto Ti ha sgamato O non ti ha sgamato Bellissimo Un modo semplice E veloce Per risolvere Un problema Di game design In questo caso Però sì Come vedete Saranno le varie pedine Degli animali Che si sposteranno Sì No Ma noi dove siamo Cioè noi avremo Degli elementi in plastica Che ci permetteranno Di capire Angolazioni di vista Non lo so Mi stranisce Anche questa immagine Così un po' Psichedelica Di quello che probabilmente Sarà il tabellone Di gioco Mi sconfonde Mi sconfonde Non poco Però per adesso Non ho trovato più informazioni Di quelle che vi ho detto E quindi Forse in base a dove sei Devi usare obiettivi Della camera particolare Da cui punti di vista Potrebbe essere Potrebbe essere Ci potrebbe stare Effettivamente Quindi un gioco Per fotografi Chi lo sa Chi lo sa Se ne saprà sicuramente di più Appena se ne saprà di più Magari ne parleremo ancora Ma mi ha colpito Questo tipo di Cosa strana Che ho letto E volevo Volevo condividerla con voi Ma signori signori Siete pronti Perché mercoledì 22 Oltre ad uscire La terza puntata Di Uscre la terza puntata Di Miss Marvel Oltre ad essere anche Il day one Di Carnival Zombie E di Cross Clues Di Terranio Creations Così ve l'avevo detto Lo scorso settimana In Next Ma ve lo ricordo Mercoledì 22 Sarà un altro day one Che io sto tenendo Perché arriva la prima puntata Della terza stagione Di Umbrella Academy E qual momento migliore Per parlarvi Del boss game Di The Umbrella Academy Della Dark Horse Bellissimo Miss Marvel Forse se ti abbassi A livello della plancia E disegnini sulla plancia Hanno senso Può essere Falviz Può essere Secondo me sì E usando elementi in plastica Che mi immagino In 3D Probabilmente ti daranno Un'idea di una direzione In cui farai la foto Non so che link Che link hai messo Miss.marvel C'è un punto Tra Miss e Marvel E allora Te l'ha messo come link Allora Questa è una serie Che proprio non ho capito Mi dice Dice E io ti dico Quando è partita La Umbrella Academy La prima stagione Mi ricordo avevamo Giulia e Nicolò Piccolissimi Quindi era 2018 Perché mi ricordo Che erano proprio Piccoli piccoli Ancora col bibe proprio Non manco Avevamo iniziato Lo svezzamento Ne avevamo guardate Un paio di puntate E anche io Non ci avevo capito niente E mi aveva Abbastanza annoiato C'erano sti due personaggi Qua Con sti Teste da pupazzi Asele e Ciaccia Ma che cacchio Ma cosa Ma sti Ma che poteri hanno Ma cosa fanno Sti tizi Ma cos'è st'Umbrella Academy Non capisco niente Passato lo scoglio Delle prime puntate Una serie che ho adorato Di cui adesso Arriverà anche Il gioco da tavolo Gioco da tavolo Che si rifà Però come vedete Se seguite la serie Si rifà ai fumetti In quanto i personaggi I nostri protagonisti Non hanno le fattezze Degli attori Che li interpretano All'interno Della serie tv Ma hanno molto di più Le fattezze Legate a Quello che Quello che era il fumetto Ma l'Umbrella Academy Cos'è Questa accademia Per ragazzi straordinari Questo gruppo Di fratelli Per quanto non siano Fratelli biologicamente Perché ognuno È nato Da una parte Diversa del mondo Ma tutti sono nati Contemporaneamente Lo stesso momento E tra l'altro Con dei parti Strani Cioè ragazze Che all'improvviso Si trovano incinte Partoriscono Questi bambini Che hanno tutti quanti Dei superpoteri E noi andremo Sto che di nostra sorella Che di nostra sorella Che diventa matta Perché è la più potente Di tutti quanti E come lo faremo Lo faremo Girando in varie zone Della plancia Andando a Giocare carte Dalla nostra mano Ognuno di noi Avrà un mazzo diverso Secondo del personaggio Che utilizza E ogni carta che giocheremo Potremmo usarla O per attivarne L'abilità Iniziale Sono dipinte Mi chiede Dancefloor Le miniature Non so Non so dirti neanche Se ci sono le miniature In tutta un'està Si ci sono le miniature Ma no Non sono dipinte Sto guardando Se avevo messo altre foto Ma no Non sono dipinte Le miniature Noi gireremo quindi Nei vari luoghi Ci saranno dei pericoli Nei vari luoghi A seconda della Missione che stiamo svolgendo Del cattivo Che stiamo cercando Di combattere Quindi dei pericoli Che sono Che sono in corso Anche perché Tutto quanto L'Umbrella Academy È sempre che Ah se non riusciamo A fermare questa cosa qua Ci sarà l'Armageddon L'apocalisse Finirà il mondo Cioè è sempre Molto poco catastrofica Noi qua anche Nel gioco da tavolo Dobbiamo fare la stessa cosa Come vi dicevo Ognuno di noi Avrà un mazzo di carte Con le nostre carte Noi le possiamo giocare O per attivare Poteri speciali Nostri Personali Dati dalla nostra carta Oppure potremmo giocarle Ciao Sasha Eccoti Non te lo sei persa Non ti preoccupare Oppure potremmo giocarli Per lasciare giù Dai simboletti Sulle carte Al fine di riuscire A risolvere Quei pericoli Che man mano Andranno avanti Lungo la plancia E se non li abbiamo risolti Prima che ne debbano uscire Faranno capitare Robe brutte Quindi se siete super fan Di Umbrella Academy Dategli un'occhiata Io pur piacendomi molto la serie Ammetto di non aver mai letto Il fumetto di Umbrella Academy Sono molto curioso di vedere La terza stagione Con gli Sparrow Con questo appunto Cambio di universo Che c'è stato improvviso Il gioco di per sé Per quello che ho visto Per quello che ho letto Mi sembra molto molto basilare Molto molto semplice E mi dà un pochino l'idea Poi magari sbaglierò Che abbiano Su un concept Di un gioco Qualsiasi Abbiano un po' appiccicato Il tema Umbrella Academy Per quanto poi magari Mi sbaglierò E probabilmente ci sarà Tra l'altro Non è neanche il primo titolo Che esce Sul brand di Umbrella Academy Ma non ne ho mai giocato nessuno Quindi Ahimè Non so farvi paragoni Non so farvi paragoni Ma andiamo avanti Il titolo carinissimo Di Yellow Chissà se arriverà in italiano Perché se vi piace Sherlock Holmes Consulente investigativo Ma mi piacciono tanto Gli animali carini Un pochino Troppo morfini Come questi qua Che belli Arriva di Animals of Baker Street Un gioco investigativo Per tutta quanta la famiglia Dove ci sono vari casi Da risolvere E' super bello E' super carino E' super carino Perché noi siamo Nei panni Di Che bello Che è quel Bau Che c'è in copertina Scusate Ma io divento scemo Quando vedo i cani Noi saremmo appunto Nei panni Di questi animali Che sono gli investigatori Vado a recuperarmi la serie Bravo Fede E questo è bellissimo Questo è bellissimo Per adesso L'ha annunciato Yellow Allora Yellow Lo farà sicuramente In inglese In francese Manca l'amaro Solitamente Localizza in Italia I giochi della Yellow Ma di questo Non hanno ancora dato notizia Non so assolutamente nulla Anche perché L'ho visto Ieri l'altro Venerdì Ho visto l'annuncio Di Yellow Di questo Di Animals of Baker Street Quindi Chissà Chissà Mai dire mai Io me lo auguro Perché sarà comunque Un gioco dipendente Dalla lingua In quanto noi avremo Vari Vari luoghi Vari casi Da dover Risolvere Eccola Marco Eccola Altra immagine Per adesso Ce ne sono poche Però i componenti Saranno questi Quindi mazzi di carte Con varie Location Varie cose Che noi potremo andare Ad indagare Secondo del personaggio Che siamo Tra l'altro Ci darà Delle abilità In più o in meno Per Il risolvere L'avventura E sarà comunque Una corsa contro il tempo Noi non avremo La possibilità Di seguire Tutte le piste Che vorremmo seguire Di interrogare Tutti i sospettati Che vorremmo interrogare Però guarda anche Cioè Allora A parte il topino Con gli occhiali Che è meraviglioso Il ragno Cioè Il ragno Solitamente è un animale Così che non piace Un po' brutto Un po' Un po' Ma guardate che carina Che è la faccia Di quel ragnetto Lì sotto Guardatelo Com'è simpatico Il topino Con gli occhiali È troppo bello Ok Scusate Non mi devono fare Questi giochi Così tutti carini Con tutti gli animalettini Che a me Poi fanno diventare scemo Ma Ma Appunto Dovremmo andare Quindi ad indagare Interrogare i vari sospettati Cercare di capire Cosa è successo E risolvere il caso Ci sono sette casi Se non mi sbaglio All'interno della scatola Non sarà rigiocabile Ed è comunque pensato Per tutta quanta la famiglia Ma comunque un dieci più Quindi non è Alla Detective Charlie Per capirci Molto per bambini Per un target Di bambini piccoli Ma sicuramente un gioco Che il Mi ricordo la serie YouTube Di Luca the Spider Che non conosco Il viaggio di Martens Poi me lo andrò Poi me lo andrò a vedere Comunque pensato Per famiglie Comunque con bambini Magari anche un pochino più grandi Magari dai dieci anni Che sicuramente Giocando assieme a mamma e papà Riescono ad apprezzarlo Semplicemente adorabile Sono totalmente Totalmente L'accordo con Con voi E per tutti quanti I fan Invece Dell'aguzzare la vista Del risolvere misteri Ma farlo in un modo Molto particolare Dopo i gatti di Purrock Holmes Esatto Ma questo è molto meglio Perché c'è un cane Non c'è un gatto Ma per tutti quanti I fan Dell'aguzzare la vista Signore e signori Arriva Finalmente Osarei dire Finalmente Nuovi casi Su una nuova mappa Per Micro Macro Perché arriva Micro Macro Crime City All in Terza scatola Di Micro Macro Arriverà in italiano Boh Non lo so Però per adesso L'hanno annunciata E se non sapete Cosa sia Micro Macro È una sorta di Dove Wall-E Mia Assolutamente sì Una sorta di Dove Wall-E Nel quale però Noi dobbiamo Risolvere dei misteri Noi avremo Una piccolissima mappa Che è piccola Piccolissima mappa Con un sacco Con un sacco Di particolari Di persone Di omini Di situazioni E avremo Vari casi Vari casi Che si sviluppano Tutti quanti All'interno Della stessa mappa Ed è questa La genialità Quindi noi Dovremmo Leggeremo Un incipit Di una storia E poi potremmo Giocarlo in due modalità Una più semplice Nella quale Seguiamo Domanda dopo domanda Le domande Che ci fa il caso Oppure noi possiamo Soltanto leggere L'incipit E provare A risolvere Noi il caso Solo da quell'incipit E l'incipit Sarà Ah hanno trovato Morto Ammazzato Tizio Vicino Al suo salone Da parrucchiere Tu cosa fai Inizia a cercare Su questa mega mappa Il salone Dal parrucchiere E tizio Morto Ammazzato Che sulla carta iniziale Ci sarà magari Che ne so Lui affogato Della vasca da bagno Che ne so Lo trovi Ok E da lì Tu puoi Ma chiamarlo All in Sembra che ci siano Tutti i casi precedenti No In realtà no Sono tutti nuovi casi Board game offerte Sono tutti nuovi casi E lo E quindi non so Perché ne ha chiamato All in Però Ci saranno dei casi Sul poker Che ne so Non ne ho la più Pallida idea E quindi dicevano Noi trovato Appunto La scena del crimine O leggiamo la prossima domanda Che magari dice Ah cosa stava facendo Prima di farsi il bagno Il nostro tizio incognito Oppure Proviamo a risolvere Tutto da soli Perché Noi Da lì Muovendoci A ritroso Sulla mappa O comunque Cercando il percorso Che il tizio ha fatto Magari vediamo Che prima di entrare in casa Si era fermato A mangiarsi La polenta concia Dal banchetto Vicino a casa sua E poi magari Con chi aveva parlato Prima di mangiarsi La polenta concia Andando ancora indietro A ritroso Lo vediamo Che alla fermata Dell'autobus Stava parlando Con Pina La sua vicina Ma dove era Pina La sua vicina Prima di essere Alla fermata Dell'autobus E vai così Tutto quanto a ritroso Fino che non riesce a capire Che Pina Era innamorata di lui Gli ha avvelenato La polenta concia E lui è affogato Nella vasca da bagno Per questo motivo Ok Perché riuscirai a mettere assieme Tutti quanti i pezzi E ci saranno 14-15 casi Quanti sono Tutti quanti Sulla stessa mappa Ed è eccezionale A me era piaciuto Tantissimo Micro macro L'avevo però trovato Un'idea fresca Divertente Bella Da strapparsi un po' agli occhi Da giocare bene Illuminato Da non giocare in troppi Per quanto la mappa è grande Ti viene da dire Dai facciamolo in tanti Ma quando sei due o tre teste Che si scapocchiano Sopra la Cioè si danno le testate Sopra la Sopra il Tabellone Comunque sopra questo Megafoglio È un po' È un po' difficile Però Avvelenare la polenta concia Più rival Esatto Esatto Questo gioco è geniale Stupendo Mi sono divertito un sacco A giocare il primo Dobbiamo iniziare il secondo No è Assolutamente Assolutamente Sì Tipica polenta concia Con arsenico Esatto Perché avevano anche fatto Un famoso film Arsenico e Vecchie polente conce Mi sembra che si chiamasse Tra l'altro Era proprio Era proprio tipico Cioè Proprio Chi è stato Il maggiordomo Avvelenando la polenta concia Cioè Proprio Proprio classico Tra l'altro Nel mondo dei giochi E quindi Arriverà Arriverà Tutti i fan mini di Micro Macro Siate contenti come lo sono io Perché è un sacco bello E Signore e signore Ci sono fan di Orlean Qua in chat Orlean con tutte le sue espansioni Orlean in Trigo Orlean di qua e di là Io lo dico subito Me Orlean Non mi ha mai fatto impazzire Quindi Iniziate pure ad insultarmi Fan di Orlean Fatevi vedere E Sa che si deve aspettare Almeno 4 ore Dopo aver mangiato la polenta concia Il Tommy Eccolo Porghiamo per te Io Bene Allora Signore e signori C'è una notizia Che potrebbe Farvi felicissimi Come farvi Non lo so Lasciarvi allibiti Come mi ha lasciato un po' lì La notizia che arriverà Dopo questa Perché Su Orlean Arriva Orlean Draw and Write Quindi non è un Roll and Write Attenzione È un Disegna E scrivi Quindi Non è neanche un Flip and Write Quindi non ci saranno carte Non ci saranno dadi Ma bisognerà sia disegnare Che scrivere Cosa e come Non Non ne ho la più pallida idea Non ho trovato Non ho trovato Info Ok Non ci sono altre immagini Oltre a quella della cover Dove la protagonista sarà Giovanna d'Arco Va bene Che firma Cose Così neanche fosse una pittrice Ma Ambientato nell'universo di Orlean Perché Perché noi anche qua Avremo dei seguaci E questi seguaci Non li pescheremo da un sacchetto Orlean piccionari Ma Draw Come disegnare O come pescare Bravissimo Marco Bravissimo Perché Draw Come pescare Infatti Non è un disegnare E scrivere Ma è un pescare Che vi volevo fregare Ma uffa Marco Mi hai Mi hai Anticipato Nel gioco Noi avremo In Orlean Cosa facciamo Se non lo sapete Ognuno di noi Ha un sacchettino Dal quale peschiamo Dei Dei nostri assistenti Ok Degli ominini Dei tondini O degli omini Se vi eravate presi La versione Pimpata Con i quali Attiveremo varie zone Della nostra plancia E faremo cose Ed è un Bag building Quindi noi Questi omini Che avremo nel sacchetto Nel corso della partita Gli aggiungeremo noi Quelli dei colori Che ci interessano Nella speranza Di pescarli più In fretta Figurati Marco In realtà Da quello che Ho capito Per quanto non si vedano Ancora altre immagini Oltre a questa Ci sarà sì Un sacchetto Con dentro Degli assistenti Ma noi Pescheremo O comunque Avremo degli assistenti In mano Ne sceglieremo uno Con il quale Segneremo E faremo cose Su una nostra Foglio Penso E poi ci sarà un draft Quelli che non abbiamo scelto Li passeremo Al giocatore Alla nostra sinistra Ricevendone altrettanti Dal giocatore Alla nostra destra Ne sceglieremo un altro Segneremo quello Che ci fa fare Questo qua E andremo avanti così Quindi in realtà Un Roll and write E grazie EmpecoRator Ma grazie mille Per il follow Per l'abbonamento Grazie davvero Tra l'altro Non approfitto EmpecoRator Visto che sei arrivato oggi La prima volta che ci Ci conosciamo Che chiariamo Che grazie al tuo abbonamento Prime Se digiti Ricompense in chat Vedrai che puoi Riscattare delle cose Gratuitamente Su DungeonDice.it Il sito di riferimento Per il mondo Del gioco da tavolo Di ruolo E del libro game Grazie al tuo abbonamento Prime Puoi riscattare Immediatamente Anche un mese Di abbonamento VIP Che ti dà accesso A delle offerte Riservate per i clienti VIP Spese di spedizione Con una soglia Più bassa Oppure se vorrai EmpecoRator Potrai anche riscattarti Magari dei buoni sconto Piuttosto che Dei codici Per le spedizioni Gratuite E grazie Grazie davvero a te Grazie di cuore Mi fa super piacere Di aver Già da subito Ricevuto il tuo sostegno Grazie davvero Quindi Di Johan Dark Johan Dark Non si sa Non si sa ancora Granché Di come funzionerà Ci sarà questo draft Segneremo delle cose Sulla nostra plancia Sarà bello Sarà brutto Solo il tempo Ce lo dirà Per adesso Non si sa Ma E quindi andiamo avanti Ma come questo Ai fan Di Orlean Può dire Ah però Una versione Roll and write Draw and write O quel che è And write O sarà Ferguson Anche bravissimo Federico Lascia un po' lì Io sapete Che Una delle robe Che a me Fan subito Gola Mi piacciono subito Lo sapete Chi segue da un po' Sa A me Mettimi gli zombie Dentro qualsiasi cosa E a me mi fai contento Io sono un grande fan Degli zombie Mi piacciono E la mia tipologia Di Di mostro Di pericolo Preferita Nei film Mi son guardato Anche tanta robaccia Ma anche Tanti film A tema zombie Della Asylum Per esempio Perché comunque Se ci sono gli zombie Io comunque Mi ci diverto Ok Orlean zombie Esatto Zombie nell'ate Zombie a colazione Zombie sempre Non è Orlean zombie Che potrebbe però Effettivamente Farmi apprezzare Un sacco di più Orlean Ci fosse una meccanica Con gli zombie Che se li peschi Ti mangiano Gli altri tuoi omini Cioè Pensa che bello Ragazzi Scusate In Orlean Noi peschiamo I nostri assistenti Li andiamo a mettere Sulla nostra plancia Per fare cose E se dentro il sacchetto Ci fossero quelli Vabbè I neri già ci sono I grigi anche Comunque Di un colore Che rappresenta gli zombie Che quando lo tiro fuori Lo devo comunque andare a piazzare Ma quello lì Mi mozzica L'assistente Che avevo già lì Mi depotenzia Quell'azione E quegli zombie Mi ritornano Nel sacchetto E quando riescono Mi zombificano Man mano Tutta la gente Della mia plancia Quanto sarebbe figo Ragazzi Quanto sarebbe Più divertente Quanto sarebbe Più pericoloso Pescare da quel sacchetto Che paura Vi metterebbe addosso Ragazzi Dobbiamo parlare Di giochi a tema zombie Giochi horror Una sera E quindi In giochi giullari Non domani sera Alle 21 Ma secondo me Prossima settimana Potrebbe essere Molto interessante Fare una serata A tema zombie E tutti i giochi Horror In cui I giochi normali In cui gli zombie Ci starebbero Proprio bene Esatto Tutti quanti i giochi Dovrebbero avere Una modalità zombie Ne parliamo In giochi giullari Detto Fatto Ve lo prometto Quanto è figo Ma Ma io sapete Sono un grande fan Degli zombie Quindi ovviamente Uno dei brand Sugli zombie Più Conosciuti Più noti Più belli Più Spoiler 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 Il gioco migliorerebbe Con gli zombie Risposta Sì Finita la live Due secondi Ciao Andiamo a casa Dicevo però Ho letto di una roba Che mi ha Un attimo lasciato Un po' lì Perché hanno La Simone Ha annunciato La cool mini or not Casa editrice Di zombie side Di cui Poco tempo fa Abbiamo anche parlato Di zombie side marvel Per esempio Annunciano Zombie side gear up Non è un'espansione È un gioco stand alone Non va su kickstarter A differenza degli altri giochi Del simon Arriverà in autunno Direttamente in america Direttamente in retail Chissà qui Hai tutta l'attenzione Ma Dimmi tu dance floor Ok Zombie side in cui sei lo zombie No Noi saremo sempre Dei survivor Ognuno avrà delle caratteristiche Ognuno avrà delle armi Tra cui quella signora Là sullo sfondo Con gli artigli Tipo wolverine Bellissimi No Il tizio Con il super mega mitraglione Arco e frecce Quel che sarà Esiste un gioco zombie marvel Sì nico Sì 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 E ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Tempo fa Guarda se ti recuperi La live che avevamo fatto Di giochi e giullari Ma Una delle prime In cui avevamo parlato Di tutti quanti i giochi Della marvel Scoprirai che esiste anche un gioco Che si chiama zombie side marvel In cui ci sono i super eroi E gli eroi della marvel Diventati zombie Che possono mangiarti O tu puoi governarli Per mangiare la gente O combattere contro gli altri Comunque sì Vattelo recuperare E Che succede in questo zombie side gear up? Che noi Gli zombie Ce li abbiamo sotto forma Di queste dimensioni Ok Strutture Di polimini E le nostre armi Ci permettono Quando attivate Di colorare Colpire Gli zombie Che saranno Disposti in varie file E avanzando Verranno verso di noi E dopo Dot around Se non li abbiamo sconfitti Ci attaccheranno Ci faranno danni Ma Se riusciremo a colpirli E vedete che hanno stelline Scudi Robe Quando riusciamo a colpire La stellina Gli abbiamo fatto il danno Quando riusciamo a prendere lo scudo Ci aumentiamo l'armatura Ci saranno anche Delle stelline rosse Dei proiettili Che ci Daranno anche Dei boost Ci faranno aumentare La nostra esperienza E permetteranno Alle nostre armi Di colpire più grande Ehm Lo vediamo ancora E Rosenberg zombie Bravo fede E' esattamente quello E' uno zombie side Con i polimini Zombie side Con i polimini Nei quali Noi gireremo carte Da un mazzetto Che verrà preparato All'inizio della partita Che ci dirà Ok Attivate l'arma rossa Ok Attivate l'arma blu Ok Attivate l'arma rossa Di nuovo E noi andiamo a segnare Facendo attenzione A non poter mai coprire Due volte la stessa Casellina Sugli zombie Che stanno arrivando Che cosa andremo a colpire Quando poi sarà finito Sto mazzetto Gli zombie Se sono un caravivi Ci attaccano Ma se noi siamo riusciti A coprire certe caselle Non ci faranno Comunque danni E guadagneremo Intanto esperienza E le nostre armi Diventeranno Versioni migliorate Di loro stesse Che ci permetteranno Di fare danni Più in fretta Dobbiamo sopravvivere A tre ondate Di zombie Tanti personaggi Tante tipologie Di zombie Però mi ha lasciato Un attimino lì Mi ha lasciato Un attimino lì Insomma Non sono proprio Convinto A vederlo così Sulla carta Questo Questo esatto Zombicide Patchwork O chiamiamolo Come vogliamo Non lo so Non lo so Fatemi sapere anche voi E cosa ne pensate E' vero che ci sono Di zombie Ma sono anche lì Disegnati Cioè In forme strane Non lo so Cioè Quella zoppa La piramide zombie Cioè ragazzi Ma che Diciamocelo Ma che cazzo è La piramide zombie Scusate per la voraccia Che scusa Alla regia Cioè Ma Ma dai Ma cos'è Ma perché Boh Roll right and zombie Esatto Non ci sarà niente Non ci sono andati Da rollare Ma sarà tutto Determinato Da delle carte E Anche solo come pensiamo Infatti strano Non ci siano Giochi di rose Per questa settimana Ma questo è stato Fortemente 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 Ispirato Secondo me Scusi Scusi Da John Dice TV Chiedo Chiedo Venia Io scusa Mi ricordo tanto Vulvia Quando diceva Le Proprio vero Che tira di più Un pelo di Cusa Cusa Che c'era sempre La regia dall'alto Che le incuteva timore Mi Immaginavo Nella stessa Situazione Dicono bene Sulla scatola Nel mondo Di zombie Sei solo un modo Per fare soldi Con il nome Ma allora Questo Si può dire Di qualsiasi gioco Ok Si può dire Di qualsiasi cosa Ah hanno scritto Che è di felda Ah l'hanno ambientato A pisa Ah l'hanno Cioè ok Si può dire Di qualsiasi cosa È giusto Secondo me Dire nel mondo Di zombie Sai Nell'universo Di zombie Sai Perché effettivamente È ambientato Nell'universo Di zombie Sai Ed è comunque Stato autorizzato Cioè Da Culmini Or not Questo gioco Quindi sicuramente Avrà il suo Perché Ciao José Carlos Ciao Carlo Grazie mille Per essere arrivato E Quindi ci sta Poi ci sono Dei disegni Molto simpatici È molto carino Poi ci sono appunto Gli zombie Che già abbiamo conosciuto Nell'universo Di zombie Sai più altri Ma Boh Boh Mi ha Mi ha lasciato Mi ha lasciato Un attimino lì Mi ha lasciato Un attimino lì Ma tant'è Ma tant'è Signori Signori Arriverà Arriverà Come vi dicevo In autunno In America Non passerà su Kickstarter E quindi Ne sapremo di più Ne sapremo di più Sicuramente Tra qualche mese Ne sapremo di più Tra qualche mese Ma intanto Se Sasha È ancora qui Con questo Chiudiamo la nostra parentesi Ragazzi Andrò un attimino lungo Vi chiedo scusa Ma intanto vedo Che siamo ancora in tanti Quindi vado un attimino lungo Ciao Sansuke Ciao Grazie per essere passati Perché io ho ancora Da darvi alcune news Legate a cosa vedremo Nei prossimi mesi In Italia E soprattutto C'è quel titolo Che quando l'ho visto Ho fatto quella faccia Da E che Vale sicuramente Sicuramente vorrà Scusate C'ho una Cosa in testa Vale sicuramente vorrà Quindi io mi bevo Un goccio d'acqua Ringrazio tutti quanti voi Che siete ancora qui Sasha Eccola Perché Sasha mi ha chiesto Un titolo La scorsa settimana Da biricchino Bravissimo Il pavis Mi ha chiesto un titolo La prossima settimana E adesso Ne parliamo Sono andato a studiarmi Lo titolo Che arriverà Entro fine mese Dovrebbe essere Con Asmoday Italia E Vediamo Vediamo Sasha Ma anche una cosa Specifica Che mi hai chiesto Mi sono informato Appositamente su quello E ti dirò la mia E Ti devo dire Vi devo dire Che la situa Tanto male Non è Io bevo un goccio d'acqua E voi fatemi sapere Se avete intuito Quale potrebbe essere Quel gioco Che vale Vorrà Obbligarmi a fare subito Un preordine Anche se non è ancora attivo Grazie Scusate Ma avevo proprio Un po' di set Però devo ammettere Che oggi Con tutto aperto Si sta meglio Non sembra venerdì Venerdì C'era da Morire Quassù sopra Anche adesso È caldo Per carità Ma adesso Non è aperto di qua È aperto di là Qua Sono proprio in mezzo A una corrente d'aria Buonina Buonina E quindi Resisto ancora un po' Come basta temporeggiare Allora Federico Allora Ma veniamo noi Allora veniamo noi Perché Per adesso Data Ufficiale 30 30 giugno A War of Whispers Titolo che ammetto Non conoscevo Che Sasha Mi ha chiesto Di approfondire Di poterne parlare Proprio perché Già in preordine Sul nostro sito DungeonDice.it Che vi lancio Al volo in chat Volendo Lo potete preordinare War of Whispers È un gioco Galline zombie Che fanno polimini Bellissimo È un gioco Di Maggioranze Ma non solo Maggioranze Controllo territorio Ma non solo Controllo territorio È un gioco Di Mi verrebbe da dire Bluff O comunque Un minimo Di Deduzione Su ciò che Faranno gli altri Perché 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 in gioco Ci sono Queste cinque casate Ok Che saranno Gli elefanti I lupi Le aquile I leoni Ok Ognuna di queste casate Andrà a schierare Sulla mappa Bandiere Città Di cui prenderà Il controllo Con le proprie bandiere Già preordinato Dice Paolo Bax Grande Andrà a prendere Appunto Il controllo Di questi vari territori Con le proprie Bandieruole Con le proprie Le proprie città Mettendoci fisicamente La bandieruola dentro A giro I giocatori però Non rappresenteranno Una Di queste fazioni Ma queste fazioni Saranno sempre Comunque tutte quante In gioco Ho detto Bluff Happy Board Game Ho detto Bluff Perché Perché Le fazioni Saranno sempre Tutte quante In gioco E ognuno di noi Avrà Segretamente Casualmente All'inizio della partita Avrà delle alleanze Con queste fazioni Che vuol dire Vuol dire Che io farò Si calcoleranno I punti che fa La fazione blu I punti che fa La fazione rossa La verde La gialla La marrone E ogni giocatore Avrà Più o meno punti Dati dai punti Che avrà fatto Quella fazione In base al grado Di alleanza Con quella fazione Quindi avrò La fazione Con cui sarò Maggiormente alleato Che magari I due punti Che ha fatto La fazione blu Per me valgono Per quattro Oppure I tre punti Che ha fatto La fazione marrone A me varranno Per due O magari I sei punti Che avrà fatto La fazione rossa A me varranno Per meno due E quindi ho perso Un sacco di punti Quindi nel gioco Noi Si girerà Andremo a schierare I nostri Devo soffiarmi il naso Portate pazienza Ma stanno tagliando erba Ovunque Sapete che le mie allergie Non mi danno mai pace Dimo che quelle bandiere Fossero solo Della versione deluxe Saranno solo cubetti Purtroppo Ok grazie Paolo Questa cosa Non lo sapevo Riprende vagamente Alcune cose Da Britannia Ma senza alleanze Può essere Non conosco Britannia Ammetto la mia ignoranza In questo Dicevo Noi andremo a Schierare I nostri seguaci Chiamiamo così Sulle varie Spaziazioni Delle varie Casate Ognuno farà sempre Più o meno le stesse cose Cambierà l'ordine Con cui lo faremo Perché Anche quando si gioca In meno di 4 giocatori Noi non attiveremo Sempre tutti quanti Gli spaziazioni Di tutte quante le casate Ma solo quelli Su cui avremo schierato I nostri seguaci E schierare un seguace Su una spaziazione Di una casata Permetterà di muovere Le truppe di quella casata Di fondare nuove città Di andare a creare A prendere il controllo Di quelle città Spostarci in città Già influenzate da altri Eccetera eccetera Ma la particolarità È che a seconda Di come si saranno Posizionati i giocatori Sui vari spaziazioni Alcuni giocatori Potranno anche risolvere Più di uno spazio E sì Quindi a giro A seconda Cambierà sempre Quella che partirà Per quattro round Per quattro round di gioco Si attiverà sempre Prima una certa fazione Piuttosto che un'altra E a war of whispers Una guerra fatta di sussurri Happy board game Andremo quindi ad attivare Le varie casate Sempre in ordine diverso E gli spaziazioni Che verranno attivati Chi li attiverà Cambierà di round in round E chiaramente Ognuno Cercherà sempre di tirare L'acqua Al proprio mulino Perché chiaramente Se io moltiplicherò Per quattro i punti del giallo E per due i punti del rosso Farò sì Che quelle due fazioni Siano messe meglio E gli altri giocatori Che magari a quelle fazioni Gli interessano pochissimo Vorranno che siano messe male Ma allo stesso tempo Ed ecco qua Che secondo me Sasha anche in due Può avere il suo parquet Pur essendo un gioco Di maggioranza Controllo territorio Meccanica Che solitamente Tiene meglio In più giocatori Diciamo così Ecco che Avendo questa Meccanica di bluff E queste alleanze Che noi abbiamo Con le varie casate Ecco che allora Secondo me Potrebbe diventare Anche interessante In pochi Dove io Non mi devo Troppo esporre Sul fatto che Io sono alleato Dei gialli e dei rossi Per esempio Perché Se anche un altro giocatore A parte che c'è alleato Va bene Faremo entrambi Una fraccata di punti Ed è come non averli fatti Allo stesso tempo Se io sto spingendo Un sacco i gialli Gli altri probabilmente Attaccheranno i gialli Anche se magari A loro qualche punticino Glielo danno Perché meglio Farne perdere Parecchi a me Che farne fare Tanti a un altro giocatore E quindi Potrebbe essere interessante Quindi un postile Da leaders Ma che va bene Anche per due Sì Sì Diciamo che Il concetto Ciao Polenta Stiamo parlando Di A War of Wish Per il titolo Che dal 30 giugno Sarà disponibile Anche in italiano Con Asmode Italia Di cui proprio Sasha Mi aveva chiesto Tra l'altro Se avete richieste Magari di qualche approfondimento Su qualche titolo Oppure Volete segnalarmi Qualche news Ecco che lo potete fare Su Telegram Che vi ho mandato In chat Scrivete pure nel gruppo Tanto ci siamo Siamo tutti quanti lì E quindi per Qualsiasi voglia Di chiacchiera Su qualcosa Piuttosto che per Segnalare qualcosa O qualche richiesta O qualche richiesta particolare Telegram is the way E quindi vi aspettiamo Tutti quanti Anche sul nostro Telegram Quindi secondo me Sasha potrebbe essere Interessante anche Per due giocatori La durata deve essere Anche molto contenuta Come vi diceva Paolo Queste bandierine Di cui vi ho messo L'immagine Forse erano solo Della deluxe E ci dovrebbero essere Soltanto dei cubetti Però vabbè Sappiatelo E Sempre a proposito Di giochi Con un po' di alleanze Con un po' di maggioranze Con un po' di attacchi Con un po' di gente Che si picchia Con una ambientazione Però fantascientifica Legata a un titolo Ricordatevi di interagire Con il bot Attualmente non potete Scrivere Ci ricordo D'Ansfall Di cui uscì Un film Poco tempo fa Cos'era? Lo scorso autunno Più o meno Che ha avuto Un sacco di successo Di un brand Molto famoso Che è Dune Di cui uscì Dune Imperium Sappiate che Non si sa ancora quando Ma è già stato anche questo Ufficializzato Da Asmode Italia E quindi Arriverà anche questo In italiano Arriva la prima espansione Di Dune Imperium Rise of X Oppure Rise of Nono Ma penso sia X E nuovamente Tutta la mia ignoranza Sì non l'ho visto Dune Imperium Picchiatemi Picchiatemi Flagellatemi E che cosa vado ad aggiungere Questo Dune Imperium Come ogni buona Espansione Questo Rise of X Perché Dune Imperium È il nome anche Del gioco base Va ad aggiungere Nuovi personaggi Quindi nuove fazioni Nuove quindi Abilità Singole Il Tommy Siamo in due Anche a me Non ha fatto impazzire Dune Imperium 34esimo titolo Sul mondo Dune Esatto ci sta Va ad aggiungere Però nuove fazioni Quindi nuovi personaggi X Letto X Ok I X I X Perché come si I X Non lo so Aggiungere nuove fazioni Nuovi personaggi Quindi potremo giocare Con delle nuove Abilità singole Nuove carte Intrigo Che andranno ad aggiungersi Al mazzo Nuove carte Dei nostri mazzi Con cui fare Il nostro deck building Che daranno Appunto la possibilità Di svolgere Azioni Non nono Sì Vabbè Ma era una battuta Che quella del nono Fede Lo so Lo immaginavo A chi piace Sono una goduria Senza ombra di dubbio Perché come vedete Lì in alto Si vanno anche ad aggiungere Nuovi spazi Azione E' proprio un pezzo Di plancetta Che va messa lì fuori In quanto X Dovrebbe I X Dovrebbe essere Un nuovo pianeta Che noi potremmo andare A colonizzare Sempre per avere La spezia E diventare più ricchi Più potenti Dell'universo Di Dune Imperium E va anche ad aggiungere Un nuovo tipo di unità Che sono le nostre Astronavine Che vedete lì Sul Quello spazio azione Quella lì verde Ok Quella lì Un'astronavina Dei vari giocatori Che ci daranno Nuove possibilità Di azione Nuove Nuovi movimenti Nuove cose Duna Imperium E' vero Io l'ho detto A me non ha fatto impazzire Come gioco Neanche al Tommy Se vi può interessare Ciao Sasha Ciao Un bacione Buon Buon rientro lavoro Sicuramente Per chi può Appunto essere Interessante Per chi piace Sicuramente Da una nuova ventata Di freschezza Da delle nuove possibilità Strategiche E' stato comunque Un gioco Che ha avuto Grande successo Ha avuto Nomination varie Anche al Sdor Poi non ha vinto Perché ha vinto Living Forest Secondo me Meritatamente Però Vabbè Quello è un altro Discorso Il Pubis dice Non mi piacciono le carte Intrigo di questo gioco Anche a me Non hanno fatto Impazzirissimo Quell'aspetto Quell'aspetto Del gioco Però Però ci sta Cioè Secondo me Nel tipo di ambientazione Che il gioco vuole offrire Ci sta Poi Come è giusto Che sia Escono migliaia di giochi Ne abbiamo visti un sacco Già solo Che sono in uscita Anche adesso E quindi ci sta Che non tutti i giochi Possano piacere All'unanimità A tutti quanti Ma signore e signori Io vi avevo promesso Un gioco Che mi ha fatto Strabuzzare gli occhi Che mi sono provenuti Gli occhi a cuoricino Che Vale Mi obbligherà A prendere Ma Vado a controllare Ma Sono certo che non è ancora Attivo il preordine Perché Non si sa neanche ancora Quando uscirà Questo giornalmente Infatti Non esiste neanche la scheda Su Dungeon Dice Non c'è una scheda gioco Perché Per ora hanno detto Sì Lo facciamo Quando Non si sa Quando non si sa Ma se siete Come noi Un po' fan Del mondo Anche un po' Puccettoso Anche un po' carino Ma che nasconde Dei giochi Veramente Eccezionali Come My Sang Mystics Ma ancora di più Come Il fantastico Fiabe di Stoffa Sappiate Che Sempre la Play that games E sempre Localizzato in italiano Grazie ad Asmoda Italia Arriverà Non si sa quando Non chiedetemelo Non si sa Arriva un nuovo titolo Che entra a far parte Di questo filone Non un seguito Di Fiabe di Stoffa Di cui già uscì L'espansione O fratellino Ma proprio Un nuovo titolo Con una nuova Ambientazione Ma diciamo Sempre un po' In quel mondo In quella lore Che è Familiar Tales Che sarà tradotto In italiano Come storie Di famigli Come vedete Sempre della play that E mio Esatto E anche questo Sarà anche nostro Senza ombra di dubbio E come recita il sottotitolo È uno Story crafting game Ovvero un gioco In cui noi Saremo Questi vari famigli E saremo I famigli Di una Bambina Futura Principessa Ma le decisioni Che noi prenderemo Nel corso Della storia Non solo Ci porteranno Dei bivi Narrativi Come già anche Era in Fiabe di Stoffa Ma ci porteranno A vivere Una storia Che a seconda Delle nostre azioni Del modo in cui Noi reagiremo Ciò che la storia Ci farà capitare Nel modo in cui Noi affronteremo Le avversità Che la storia Ci metterà di fronte Porteranno La nostra bambina Futura principessa Ad essere un'adulta Con delle caratteristiche Caratteriali Diverse Di volta in volta E tutto ciò Che noi faremo Nel corso del gioco In quanto famiglie Di questa principessa Avranno un impatto Su quello che sarà Il carattere La personalità E le caratteristiche Di questa Futura principessa Eccezionale Eccezionale Lo compro subito E non c'è ancora Non c'è ancora Purtroppo Non c'è ancora E noi chi saremo Noi saremo Dei fantastici famigli Che sfrutteremo Come meccanica Di gioco principale Un deck building Ovvero Avremo un mazzo Di carte Con le nostre Abilità Ok Con varie Diverse tipologie Di valori Diverse tipologie Di carte Che avranno Utilizzi molteplici Nel corso Della partita E che anche qua A seconda Delle decisioni Che prenderemo Seconda Di come andrà La storia Otterremo nuove carte Che saranno L'evoluzione Del nostro personaggio Ci saranno quattro famiglie diversi Da poter scegliere Quindi sempre libro da leggere Lenders assolutamente sì Perché ci sarà Il libro Che come già Come vedete È molto molto simile A quello di Di fiabe di stoffa Ok Quindi ci sarà Una parte Di libro Sulla quale Leggere la storia Che ci porterà avanti Negli avvenimenti E dall'altra Avremo proprio La plancia di gioco Sulla quale Noi famigli Ci andremo a muovere Ognuno tra l'altro Sarà molto particolare Molto Specifico Con delle caratteristiche Molto molto specifiche Ok E Vedete lì sopra C'è un giornale Della campagna Perché Vedo se è ancora Un'immagine Sì ok Ognuno di noi Avrà la sua miniatura Avrà la sua carattura Assuntiva Avremo i nostri valori Di punti vita E di quelle gemmie Quegli sparkle Tipo una moneta Del gioco Diciamo Questa ambientazione Persino a tema Quello solo Un corso letterario Stavo per arrivarci Chris Stavo per arrivarci Assolutamente Perché dicevo In realtà C'è anche E' anche previsto Un dungeon master In tutto ciò Ma che è Un'app Che gestisce Tutto ciò Che fa Normalmente Un dungeon master E E effettivamente Come anche ci ricorda Chris Se non lo sapete E' attiva Hanno lanciato Lo scorso mercoledì Gate on games Dungeon dies Hanno lanciato Un concorso Per tutti quanti Gli aspiranti Scrittori Di storie Tipo questa Dei corti letterari Libro game Molto brevi Con Sulla pagina Le 25 pagine Con tutte quante Le specifiche Del caso Dei nostri Corti in gioco Di cui appunto Vi è comparso Adesso il link In chat E Da regolamento La storia Deve essere proprio Tipo questa In quanto il protagonista Comunque l'elemento centrale Della storia Deve essere una creatura Creatura proprio come Uno di questi famigli E infatti ho detto Cavoli a mettere le mani Su quel libro adesso Io non do la notizia Nessuno sa che Questo gioco deve uscire Ho già la storia pronta Da mandare Corti in gioco Con fantastica Con un famiglio Protagonista Che deve forgiare Quella che sarà poi La personalità Della principessa A cui è stato assegnato A me ispira Da Matti Mi ispira veramente Da Matti Il fatto che Nuovamente si giochi Sul libro Direttamente Come fiabe di stoffa Lo trovo Incredibile Fiabe di stoffa A noi è piaciuto Tantissimo Tantissimissimissimo E qui sarà Un po' meno Secondo me Dungeon crawler Comunque un pelo meno Gioco di avventura E sarà proprio Molto di più Gioco narrativo E interattivo Poi c'è tutta la parte Comunque di Deck building Di gestione della mano Di carte Quindi sicuramente Un sacco di Un sacco di Elementi Molto più da Gioco Gioco da tavolo Ok Però Allo stesso tempo Allo stesso tempo È molto più Forte La parte Narrativa Che era già forte Comunque anche Sicuramente In Maes and Mystics Anche sicuramente In fiabe di stoffa Ciao Saitama Sensei Buongiorno a te Però Qui Le decisioni Che prendiamo Vanno a impattare Molto di più Sulla storia Che verrà narrata E su quella Che sarà poi La conclusione Della storia stessa E io Grazie a Smoda Italia Per aver annunciato Che arriverà in Italia Non si sa quando Ma arrivare Arriverà Arrivare Arriverà E Non vedo Non vedo Onestamente L'ora E C'è ancora una notiziola C'è ancora una notiziola Piccola piccola Io ve la darei Così in In chiusura L'ho tenuta per ultima Non per Importanza Non per fare hype Non per Queste cose qua Ma L'ho tenuta per ultima Solo per una Cosa Molto Tecnica Speriamo che arrivi per Lucca Non lo so Lenders Non lo so Perché per il momento Non Non so ancora Di una Di una data di uscita E Magari arriva Magari arriva Però Però Non Non lo so Non lo so Onestamente Se Se arriverà E Potrebbe essere Potrebbe essere Però Staremo Staremo a vedere E Stavo dando un'occhiata Se vedevo qualcosa Ma Non c'è proprio scritto Neanche In autunno O Il prossimo anno È un generico Prossima uscita Ma Chissà Chissà Magari arriverà Dicevo Ho tenuto Questa notizia per ultima Non per Per altro Ma Semplicemente Per fare Un Un ciclo Ok Perché Abbiamo aperto Questa live Raccontando Della Acquisizione Da parte Di Fanko Del Brand Mondo Mondo A cui è legato Anche il brand Unmatched Che come vi ho detto Restoration Ha però Rassicurato Tutti quanti i fan Della serie Del fatto Che Non Il brand Unmatched Rimane comunque Di proprietà Di Restoration E quindi Non Andrà a essere Intaccato Da questa acquisizione Diciamo Fortunatamente Perché se siete Comunque Fan Sappiate Che Anche Nel brand Unmatched Questa me l'ero persa E guarda L'ho detta proprio In apertura di live Quindi al massimo Dopo se vorrai Il pubis Potrai andartela A recuperare Ma È stato Finalmente Dopo essere Già stato annunciato Parecchi mesi fa Hanno finalmente Fatto vedere Proprio nel brand Di Unmatched La cover Della prossima Scatola Piccola Con solo i due personaggi In quella che vedrà Affrontarsi Udini Contro il genio Ma perché Ve l'ho messa qua Perché ve l'ho messa Tra le notizie dell'Italia Perché manca l'amaro Ha confermato Sì ragazzi Questa in italiano Arriva E quindi Fortunatamente Avremo la possibilità Di giocare anche Con Udini Contro il genio Mi piace molto Che abbiano Messo a confronto Due tipi di magia Diversi Quindi da un lato La magia L'escapologia L'illusionismo Di Henri Udini Uno dei più famosi Maghi illusionisti Dell'era contemporanea Contro invece Il genio Della lampada Di Aladino Bellissimo Un altro tipo di magia Totalmente Totalmente diversa Entrambi con le manette Ai polsi Bravissimo Boardgame 101 Per averlo notato Ma soprattutto Da una cosa Che è stata detta Sul discord Di restoration Ci sarà il concetto In entrambi Del rompere le catene Che infatti Per adesso Non si sanno ancora Niente delle carte Ma durante la campagna Ma durante la campagna Game found Del box Dove contenere I vari componenti Di un match Ed hanno fatto vedere Anche il retro Di queste carte Esatto E' proprio figa Il concetto Sarò quello del Break the chain Del rompere le catene E da questo Retro della carta Oltre ad essere Fighissimo Che la camicia Comunque di Udini Va a rappresentare Un secondo sipario Che si apre Oltre al primo sipario Che abbiamo Sul lato della carta Quello verde Quella dietro Che sembra tanto La camicia Un gilet Che ha addosso Udini E un nuovo sipario Che si apre Su questo fondale Con queste fiamme E in più Queste maniche Rompono le catene Maniche Se notate Hanno due tipi Di maniche diverse Che non so Se vorrà dire Qualcosa Saranno entrambe Le mani di Udini Ma come vedete Dal retro della carta Si vede anche Che Udini Avrà comunque Un sidekick Avrà comunque Il suo gregario Che sarà Bess E chi è Bess E Beatrice Udini Moglie E stage assistant Di Udini stesso E quindi avremo Questi due personaggi Da poter giocare Mentre il genio Che come vedete Anche lui Ancora con le mani In qualche modo Legate Alla Alla lampada Invece Sarà da solo Sarà soltanto Il genio Senza nessun sidekick Anche perché Chi gli metti Come sidekick Al genio di Aladino Aladino La lampada No Non aveva senso Ci sta che Tutta quanta La sua potenza Sia Sia da solo Arriverà anche In Italia Non si sa quando Prima di questa Vi ricordo Che in Italia Arriverà anche Il volume 2 Quello La seconda scatola Ah il tappeto volante Effettivamente Il tappeto volante Ci poteva stare O Abu Però vabbè Ci sta che Nella Quello Il tappeto volante Che Diciamo la Disney Ha un pochino Inficiato La nostra percezione Delle storie Legate ai Dijin Ai geni Comunque Della cultura Araba Delle storie Raccontate Da Sherazad Nelle Mille e una notte Ehi Ma a proposito Di mille e una notte Lo sapete che oggi È il day one Delle mille e uno Isole Se ancora non L'avete preso Non era voluto Questo collegamento È venuto totalmente A caso Ma era bellissimo Farlo in questo modo Così pirla Non era voluto Oggi è il day one Delle mille e uno Isole Ragazzi Il nuovo titolo Che gancio Che culo Anche oserei dire Del nuovo titolo Di gate on games Che da oggi Lo trovate Disponibile Ovunquissimo Se l'avevate Preordinato So che vi è già Arrivato Perché ho già visto Alcune foto Comparire Dei primi Che li hanno Dei primi Che li hanno Che li hanno Ricevute Grazie al preordine Sappiatelo Comunque è disponibile Se non Marketing achieved Yeah Sappiate che da oggi È disponibile Quindi nel caso Lo trovate Lo trovate Ovviamente ancora Anche in tutti quanti Dungeon store Lo trovate Ad adesso Veramente In tutte quante Le Tutti quanti Negoti Non ho capito Sono espansione Fanno parte Della serie principale Visto che mi sembra Che le regole Siano sempre le stesse Seppolenta In realtà In realtà Guarda Ritorno di qua Ogni scatola Di unmatched È giocabile A se stante All'interno È tutto quanto Necessario per giocare Ovvero i mazzi Di quei personaggi Le miniature La mappa Su cui poter giocare E i contapunti Fondamentalmente Il contatore Dei danni Ogni scatola È a se stante Come dicevo Deve arrivare anche Il volume 2 Che sarà la terza Scatola grande Che arriva in italiano Dopo Cobble and Fog E Battle of Legends Volume 1 E come già Volume 1 Aveva 4 personaggi Da 4 mondi Totalmente diversi In quanto Nella prima scatola Avevamo Re Artù Avevamo Alice Dal paese delle meraviglie Avevamo Sinbad Proprio dalle mille Una notte Come i figli di Sinbad Che da oggi Vi permetteranno Tutti quanti Di giocare Con le mille Uno isole In quanto saremo Proprio i figli di Sinbad Che è uno dei personaggi Del volume 1 E No Artù Ho detto Medusa Dall'antica Grecia Nel volume 2 Invece Che dovrebbe arrivare Stando le ultime comunicazioni Fatte da Man Calamaro Fine luglio Inizio agosto Ma potrebbe anche Essere più avanti Siccome sappiamo Che ci sono sempre Difficoltà Legate al mondo Dei trasporti E della logistica In questo periodo In volume 2 Avremo invece Che anche questo Arriverà in italiano Con Man Calamaro Avremo Bloody Mary Non Maria la Sanguinaria Ma proprio Bloody Mary Quella che se ti metti Davanti allo specchio E dici tre volte Bloody Mary Lei compare E uscendo dallo specchio E venendoti a perseguitare Per tutta la vita Sun Wukong Personaggio della cultura cinese Dal quale è stato tratto Che si sono ispirati a lui Per creare Dragon Ball E Goku Cioè perché questa scimmia Che combatte Si trasforma in mille cose Quindi Goku Nasce da lì Nasce da Sun Wukong Avremo Yen Nenga Che è una principessa Guerriera africana E Achille Achille Con Patroclo Come sidekick Che è il quarto personaggio E quindi c'è E no perché Cobble and Fog Non è il volume 2 Perché Cobble and Fog Non è un Battle of Legends Volume 2 Dove come nel primo E in volume 2 Come ti stavo dicendo Ci sono personaggi Da lore Totalmente diverse Tra di loro Che arrivano proprio Da Punto Rear 2 Dal ciclo Carolingio Piuttosto che Alice Dal libro di Lewis Carroll O Medusa Dalla Dalla Letteratura Dell'antica Grecia Ok In Cobble and Fog Era una tematica Quindi come sono uscite Anche adesso Quelle Marvel Come è uscita Quella di Buffy Sono tematiche Quindi con personaggi Tutti quanti Legati a Un preciso Un preciso Contenitore Ok Una precisa Come si In quel caso Tipo La letteratura Inglese Di Mary Shelley E Limitrofi Comunque Ambientata In quel periodo Lì Di quell'Inghilterra Molto fumosa Con appunto Dottor Jekyll e Mr. Hyde Sherlock Holmes Dracula Di Bram Stoker E L'Uomo Invisibile Quindi non sono Battle of Legends Cioè Inteso come Personaggi Che arrivano da Mitologie O comunque Da tipi di letteratura Molto diversi Tra di loro Ma Invece Volume 1 E volume 2 Han preso proprio Più Più largo Più grande E mentre Quelle piccoline Hanno Che sono già uscite Due in italiano E poi arriverà adesso Anche Udini Contro il genio Le altre due Che sono appunto Cappuccetto Rosso Contro Beowulf E Robin Hood Contro Bigfoot Anche lì Hanno preso Da Hanno preso Sparpagliato Quella Ma ogni scatola Comunque È giocabile A se stante Ma una match Zombies Quando lo fanno Chi lo sa Chi lo sa Un bel Un bello E che Lo zombie Non hai uno zombie Caratteristico Cioè Ok Puoi dire Ah ci sono tanti vampiri Ma Dracula Sai no Oppure Nosferatu Sai no Hanno Ci sono Dei vampiri Famosi Tipo anche Buffy Visto che hanno fatto Anche la scatola di Buffy Ma allo stesso tempo Degli zombie Non è che dici Ah sì C'è Frank lo zombie No Cioè Non lo Non lo conosci E quindi È dura Secondo me Per quello Perché mettere Uno zombie generico Probabilmente A meno appeal Di Frank lo zombie E però Frankenstein O meglio Il mostro Perché Frankenstein Ricordiamo che era il dottore Che ha creato Il mostro Che si chiama Semplicemente The monster E non Non si chiama Frankenstein Perché Frankenstein Era il dottore Scusate Momento sacenza Finito Non è esatto È senziente E non si nutre Di carne umana Soprattutto che è la parte Migliore Del Migliore del Che cosa Ha comunque Capisce Ha nozione Di essere Quel che è Ma dai Ne parleremo Ne parleremo Sicuramente In una prossima Di giochi giullari Perché mi ci sta Baron samedi Che li evoca O al Baron samedi Che tra l'altro È uno dei personaggi Di atmosphere Eh come colleghiamo Tutti Lo ricordate Ammosphere Con la vhs La versione Con il dvd Effettivamente Baron samedi Ci sta Ci potrebbe stare Ci potrebbe stare Non so quanto è Famoso Cioè non è un dracula Ok Però effettivamente Ci potrebbe stare Esatto Il mostro frankenstein Con gregario il lupo Che fa Ululì E ululà Esatto Alberto che giocatore Completo Grazie Grazie Che collegamenti Che collegamenti Che vi faccio oggi Ragazzi Io però davvero Vi ho già trattenuto Ben oltre L'ora in mezza Appattuita Vi chiedo scusa Per tutti coloro Che magari avevano Tanto da fare Ma purtroppo Sono dovuti Scappare Io vi auguro Un buon proseguimento Di giornata Vi auguro Non andate via Perché facciamo subito Un ride Mi raccomando Ma prima Lasciatemi ringraziare Davvero Perché siete sempre In tantissimi Mi fa sempre Super mega piacere E vi do appuntamento Questa sera Alle 21 con il loft Assieme 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 A Silvia E Giula Questa sera alle 21 Domani alle 12.30 Ci sarà Hike 5 E ci sarà una sorpresina Perché domani Non c'è Francesca Chi ci sarà A sostituirla Non lo so Lo scoprirete domani All'ora di pranzo Poi di nuovo Domani sera alle 21 Ci saremo Nuovamente Io e Vale E vedremo Faremo una scommessa con voi Vediamo se riusciremo a vincerla Quindi Continuate a seguirci Non perdetevi nulla Quando uscirà la scatola Di Villanus Con Gaston Mi chiede Polenta Te lo dico subito Che Dovrebbe già essere uscita Se non mi sbaglio Dovrebbe già essere Disponibile Aspetta The Speakable Plots Allora Adesso come adesso Non è disponibile Su Dungeon Dice Però Dovrebbe Già essere Disponibile Secondo me Già da Più o meno Play Quindi può darsi Che magari Ora non è disponibile Perché sia già andata Esaurita Su Dungeon Dice Però Teoricamente Nel caso Metti la campanellina Su Dungeon Dice E così Appena ritorna disponibile Ti arriva Una notifica È stato un piacere Ragazzi Davvero È già stato detto Chi ci sarà E lo so Ma magari Non tutti L'hanno notato Su Telegram Quindi seguite Su Telegram Il canale Di Dungeon Dice Io ho fatto opposto Ma magari Non tutti quelli Che sono qua Ci seguono Su Telegram Seguiteci Tutti quanti Su Telegram Quindi ragazzi Davvero Grazie mille Di cuore Andiamo a fare Un ride A Kafka Mi dicono Essere pronto Per accogliere Un nostro ride E quindi Ragazzi Grazie mille Davvero A tutti quanti Come sempre Salutate da parte Di Dungeon Dice Noi ci vediamo Prestissimo Non andate via Che facciamo Un ride Numerosissimi E domani sera Ci vediamo E lunedì prossimo Con Next Ciao a tutti E buon proseguimento Di giornata Ciao a tutti